il crepuscolo era ormai vicino e marie si alzò dalla panchina dove era rimasta seduta per una mezz'ora prima leggendo un libro poi con lo sguardo fisso all'entrata del viale da cui felix di solito arrivava in genere non si faceva aspettare a lungo l'aria si era rinfrescata ma conservava l'amitezza del giorno di maggio che muore non c'era più molta gente nel laugarten e il flusso dei passanti si dirigeva al cancello che presto sarebbe stato chiuso marie era già vicino all'uscita quando scorse felix nonostante fosse in ritardo camminava lentamente e solo quando i suoi occhi incontrarono quelli di lei si affrettò un poco marie si fermò ad aspettarlo mentre felix con un sorriso le stringeva la mano che lei gli aveva dato con una certa stanchezza mi chiese con tono lievemente risentito hai dovuto lavorare fino ad ora felix le porse il braccio senza rispondere dunque insiste lei sì cara disse mi ero completamente dimenticato di guardare l'ora marie gli lanciò un'occhiata di lato mi sembrò più pallido del solito non credi forse disse con dolcezza che sarebbe meglio che tu ti dedicassi un po di più alla tua marie lascia perdere per qualche tempo i tuoi lavori vogliamo fare delle belle passeggiate vero d'ora in avanti potrai uscire sempre con me così sì felix non ti lascerò mai più solo la guardò di sfuggita come impaurito ma che cos'hai chiese lei niente erano arrivati all'uscita e la vita serale nelle strade turbinava festosa intorno a loro sembrava che sulla città leggiasse quella felicità collettiva e spontanea tipica della primavera sai cosa potremmo fare disse felix che cosa andare al prater o no faceva così freddo laggiù l'ultima volta ma è quasi affoso qui in strada e comunque possiamo tornare indietro su andiamo parlava a tratti distratto ma felix che modo hai di parlare come ma a cosa stai pensando sai con me con la tua ragazza lui la guardò con gli occhi immobili assenti felix mi ascolti esclamò impaurita e premette con più forza il suo braccio sì sì fece lui riprendendosi è affoso verissimo ma io non sono distratto e se anche lo fossi non devi prendertela con me si avviarono verso il prater passando per certe vie laterali felix era ancora più silenzioso del solito le luci dei fanali erano già accese oggi sei stato da alfred domandò lei all'improvviso perché le avevi l'intenzione cosa vorresti dire ieri sera ti sentivi così fiacco è vero beh non sei stato da alfred no lo vedi ieri stavi ancora male e adesso vuoi andare al prater che è tanto umido è una vera imprudenza tanto per quello che cambia non dire queste cose finirai per rovinarti ti prego disse lui con il pianto nella voce andiamo adesso andiamo ho una gran voglia di andare al prater andiamo dove l'ultima volta è stato così bello ti ricordi in quel salone che si affaccia al giardino e che non è neanche troppo fresco va bene va bene dico sul serio e poi oggi fa veramente caldo e a casa non possiamo certo tornare è troppo presto e non voglio neanche cenare in città non ho voglia di richiudermi tra quattro mura il fumo mi disturba e non voglio vedere molta gente il chiasso mi fa male all'inizio aveva parlato in fretta e più forte del solito ma le ultime parole le pronunciò in maniera quasi impercettibile marì si aggrappò al suo braccio era angosciata e non riusciva più a parlare perché le veniva da piangere quel desiderio di una cenetta al prater della sera primaverile nel verde e nel silenzio si era comunicato anche a lei restarono in silenzio per un tratto finché marì notò sulle sue labbra un sorriso ostentato debole al quale felix mentre la guardava cercava di dare un'espressione di felicità ma marì che lo conosceva bene si accorse subito del suo sforzo erano arrivati al prater il primo viale che partiva da quello principale e andava a perdersi nel buio conduceva alla loro meta un locale alla buona l'ampio giardino debolmente illuminato i tavoli non ancora apparecchiati e sedi accostate nelle sfere dei fanali in vetta sottili sostegni verdi guizzavano cupe delle luci rosse tra i pochi clienti stava seduto anche l'oste quando marì e felix passarono lì davanti si alzò e si levò il berretto per salutare aprirono la porta della sala che dava in giardino dove crepitavano come affaticate poche luci a gas un giovane cameriere sonnecchiava in un angolo si tirò sul svelto si affrettò a regolare la chiavetta del gas e aiutò i nuovi venuti a sistemarsi si sedettero in un angolo raccolto e immerso nell'ombra e accostarono vicinissime le sedie senza esitare nella scelta ordinarono da bere e da mangiare e rimasero soli dall'ingresso arrivava cupo il riflesso delle luci rosse dei fanali gli angoli della sala si perdevano in penombra facevano sempre finché marì turbata si rivolse con voce tremante ma felix dimmi cos'hai dimmelo ti prego sulle sue labbra affiorò di nuovo quel sorriso stentato niente cara disse non dove andare tanto ormai dovresti sapere come sono fatto o non lo sai ancora certo il tuo carattere certo ma non è che tu sia solo di cattivo umore c'è qualcosa che mi preoccupa lo vedo e dovrà pure esserci una ragione ti prego felix cosa c'è dimmelo ti prego felix sembrò impazientirsi perché proprio in quel momento stava entrando il cameriere con l'ordinazione e quando lei ripete ancora una volta dimmelo dimmelo felix dimmelo dimmelo felix accennò con gli occhi al giovane ed ebbe uno scatto di irritazione il cameriere se ne andò ora siamo soli fece marì gli venne più vicina e gli prese le mani tra le sue ma cos'hai cos'hai devo saperlo non mi vuoi più bene lui taceva gli baciò la mano lui la ritasse lentamente allora felix girò gli occhi intorno come in cerca di aiuto ti prego lasciami stare non fare tante domande non tormentarmi marì lasciò la sua mano guardandolo dritto negli occhi voglio saperlo felix si alzò e tirò un profondo respiro poi si prese la testa fra le mani e disse finirai per farmi impazzire non fare tante domande restò ancora per un po così con gli occhi sbarrati mentre lei seguiva angosciata il suo sguardo perso nel vuoto poi si sedette respirò con più calma e un'espressione mite e affaticata si dipinse sul suo volto dopo alcuni istanti ogni apprensione sembrò essersi allontanata da lui e in tono pacato amabile disse a marì bevi adesso mangia lei prese obbediente coltello e forchetta e gli chiese timorosa e tu sì sì rispose ma rimase immobile senza toccare cibo se fai così neanch'io riesco a mangiare disse lei allora felix cominciò ma ben presto ripose silenzioso il coltello e la forchetta e appoggiò la testa sulla mano senza guardare marì lei lo fissò per un istante premendosi le labbra poi allontanò il braccio che le nascondeva il viso di lui si accorse che aveva gli occhi lucidi e nel momento in cui lei esclamava felix felix lui cominciò a piangere a singozzare marì prese la sua testa sul petto gli accarezzò i capelli lo baciò sulla fronte come se volesse asciugargli le lacrime a forza di baci felix felix il suo pianto era sempre più sommesso che cos'hai tesoro mia unica felicità e felix con la testa sempre premuta sul suo petto tanto che le parole le arrivavano a malapena e soffocate marì marì non volevo dirtelo appena un anno poi è finita e adesso lui piangeva disperatamente marì invece con gli occhi sbarrati pallida come una morta non capiva niente non voleva capire niente qualcosa di spaventoso e gelido le serrava la gola finché all'improvviso gridò felix felix poi si gettò ai suoi piedi e fissò quel viso che ora si era piegato sotto il petto sconvolto dal pianto vide marì ginocchiata lì di fronte e rumorò alzati alzati lei si alzò obbedendo meccanicamente alle sue parole e si sedette di fronte a lui non riusciva a parlare non riusciva a domandare e felix dopo alcuni istanti carichi di silenzio in un tratto lamentandosi forte con lo sguardo rivolto verso l'alto come oppresso da qualcosa di incomprensibile gemette spaventoso spaventoso marì ritrovò la voce coraggio ma di più non riusci a dire sì andiamo fece lui con un gesto come se volesse scrollarsi di dosso qualcosa chiamò il cameriere pagò e in fretta lasciarono il locale fuori la notte primaverile li avvolse silenziosa nel viale buio marì si fermò e prese la mano dell'amante ora spiegami tutto felix era tornato tranquillo e la sua voce aveva un tono semplice e chiaro come se parlasse in realtà di un fatto normale lasciò la mano di lei e le accarezzò le guance era così buio che riuscivano a vedersi a malapena non devi avere paura mitzel un anno è lungo molto lungo e solo un anno posso ancora vivere lei gridò ma sei pazzo tu sei pazzo in fin dei conti è stato meschino persino sciocco da parte mia dirtelo ma credimi essere l'unico a saperlo e tutto solo andarmene in giro con questo pensiero fisso probabilmente non avrei resistito a lungo e forse anche un bene che ti abitui all'idea vieni adesso che cosa stiamo a fare qui io stesso marì mi sono già abituato da tempo non credevo più ad alfred ma allora non sei stato da alfred guarda che gli altri medici non capiscono niente vedi cara nelle ultime settimane ho sofferto le pene dell'inferno perché non sapevo ora va meglio ora almeno lo so sono stato dal professor bernard il quale almeno mi ha detto la verità no non ti ha detto la verità ti ha voluto solo mettere paura perché tu fossi più prudente mia cara ho parlato seriamente con il professore ho dovuto avere chiarezza anche per te sai felix felix esclamò lei abbracciandolo che cosa stai dicendo senza di te non vivrò neanche un giorno neanche un'ora su disse pagato calmati erano arrivati all'uscita del prater si trovarono circondati dal movimento dai rumori e dalla luce le vetture scorrazzavano per le strade il tram fischiava e scampanellava sopra di loro sul ponte il treno rombava cupo marì trassa lì un tratto tutta quella vita assunse un aspetto beffardo e ostile e ne soffrì prese felix per mano per evitare l'ampia via principale e raggiunsero la loro casa invece attraverso le silenziose strade laterali pensò per un istante che sarebbe stato meglio per lui che prendessero la carrozza ma esitò a dirglielo dopo tutto potevano camminare piano non morirai no no disse marì sotto voce premendo il capo sul petto di lui ma senza di te non vivrò neanch'io cara presto cambierà idea ho riflettuto a lungo su tutto sì certo sai quando d'improvviso ho visto segnato il confine tutto mi è sembrato così chiaro così evidente non c'è nessun confine certo che c'è cara non si riesce a crederlo neanch'io ci credo in questo momento è qualcosa di veramente inconcepibile pensa io che cammino al tuo fianco e parlo a voce alta mentre tu mi ascolti fra un anno sarò sottoterra freddo forse già putrefatto smettila smettila e tu tu avrai lo stesso aspetto di oggi esattamente lo stesso magari sarai solo un po più pallida per le lacrime versate ma poi verrà nuovamente la sera molte altre sere e l'estate l'autunno l'inverno e poi di nuovo la primavera e allora io sarò già morto e sepolto da un anno sì ma cos'hai marì piangeva manamente le lacrime le scorrevano sulle guance e sul collo un sorriso di disperazione apparve sul viso di felix e sussurrò tra i denti rauco secco scusa lei continuò a singozzare mentre camminavano e lui taceva passarono accanto allo stad park percorrendo certe strade ampie silenziose e scure pervace da lieve e malinconico profumo di lilla camminavano piano dall'altro lato della strada una fila monotona di edifici grigi e gialli la possente cupola della Karlskirche alta nell'azzurro notturno si avvicinava svoltarono in una strada laterale e arrivarono quasi subito a casa salirono pian piano le scale appena illuminate e dalle finestre e dalle porte da un pianerotolo all'altro arrivava fino a loro il chiacchiericcio e il riso delle domestiche pochi istanti dopo richiusero la porta di casa dietro di sé la finestra era aperta e due o tre rose scure in un semplice vaso sul comodino spargivano il loro profumo nella stanza dalla strada saliva un brusio sommesso si avvicinarono alla finestra nella casa di fronte tutto era buio e silenzioso felix si sedette sul divano marie chiuse le imposte e abbassò le tende accese la candela e l'appoggiò sul tavolo felix non aveva fatto caso a niente di tutto ciò stava semplicemente seduto lì assorto in sé stesso marie gli si avvicinò felix disse lui solleva gli occhi e sorrise allora cara chiese e mentre pronunciava quelle parole piano e con dolcezza lei fu colta all'improvviso da un senso di infinita angoscia no non voleva perderlo mai mai e poi mai e poi non era vero non era assolutamente possibile cercò di parlare di dirgli tutto questo si inginocchiò ai suoi piedi ma non trovò la forza di aprire bocca appoggiò la testa sul suo grembo e pianse felix posò le mani tra i suoi capelli non piangere sussurrò teneramente non piangere più miez marie sollevò il capo e sperò improvvisamente in un miracolo non è vero è così non è vero felix la bacia sulle labbra a lungo appassionatamente poi disse quasi con durezza è vero e si alzò si avvicinò alla finestra e rimase fermo immerso nell'ombra soltanto ai suoi piedi giocava il chiarore della candela prese a parlare dopo un po devi abituarti all'idea pensa semplicemente che noi ci siamo lasciati così non saresti tenuta affatto a sapere che non sono più al mondo lei sembrava non ascoltarlo aveva nascosto il volto tra i cuscini del divano felix continuò se si pensa alla questione in maniera filosofica non è poi così terribile abbiamo infatti tanto tempo ancora per essere felici vero miez lei alzò il viso e lo guardò con occhiettoniti senza lacrime andò di slancio verso di lui gli si aggrappò e lo tenne stretto al petto sussurrò voglio morire con te lui sorrise sciocchezze non sono poi meschino come credi e non ho neanche il diritto di trascinarti con me non posso vivere senza di te quanto tempo hai vissuto senza di me ero già perduto un anno fa quando ti ho conosciuta non lo sapevo con certezza ma lo sospettavo già allora non lo sai neanche oggi sì lo so e perciò ti lascio libera subito si strisse ancora di più a lui accetta la proposta accettala disse felix lei non rispose lo guardò come se non riuscisse a capire sei così bella e così sana hai tutto il diritto di vivere lasciami solo ho vissuto con te morirò con te esclamò lei la baciò su da fronte non lo farai te lo proibisco devi toglierti quest'idea dalla testa ti giuro non giurare un giorno potresti pregarmi di scioglierti del tuo giuramento è questa la fiducia che ha in me tu mi ami lo so e non mi lascerai finché non ti lascerò mai mai felix scossa il capo ma lì si strinse a lui gli prese le mani e le baciò sei così buona disse lui e questo mi entristisce tanto non essere triste qualsiasi cosa succeda condivideremo lo stesso destino no fece felix serio e determinato smettila non sono come gli altri non voglio esserlo mi rendo conto di tutto ma sarebbe riprovevole da parte mia se ti dessi retta ancora facendomi inebriare dalle parole che ti detta il primo istante di dolore io devo andare e tu devi restare lei aveva ricominciato a piangere lui la carezzò e la baciò per calmarla restarono così in piedi presso la finestra e non dissero più nulla il tempo passava la candela si consumava sempre più dopo un po felix si staccò da lei e si sedette sul divano una stanchezza profonda si era impadronita di lui marì gli si avvicinò e si sedette al suo fianco poi gli prese delicatamente la testa tra le mani e la appoggiò sulla sua spalla felix la guardò con tenerezza e chiuse gli occhi si addormentò così il giorno si insinuava nella stanza pallido e freddo felix era già svegliato la sua testa era ancora sul petto di lei marì dormiva profondamente si altò senza far rumore andò alla finestra guardò nella strada che si allungava deserta nelle prime luci dell'alba ebbe un brivido di freddo dopo alcuni minuti si stese sul letto vestito fissando il soffitto quando si svegliò era pieno giorno marì sedeva sulla sponda del letto lo aveva svegliato baciandolo entrambi sorrisero non era stato tutto un brutto sogno lui stesso si sentiva sano ristorato e fuori splendeva il sole dalla strada salivano i rumori tutto era così pieno di vita nella casa di fronte molte finestre erano aperte e là sulla tavola era preparata la colazione come ogni mattina la stanza era così luminosa in tutti gli angoli si affacciava prepotente il giorno il pulviscolo scintillava nel sole e dappertutto dappertutto speranza 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 il dottore stava ancora fumando il suo sigaro pomeridiano quando gli venne annunciata una signora non era ancora l'ora delle visite e alfred restò molto contrariato marì esclamò sorpreso vedendola entrare non me ne voglia se la disturba quest'ora continui pure a fumare col suo permesso ma che cosa c'è dunque che cosa ha lei gli stava davanti una mano appoggiata alla scrivania mentre nell'altra teneva l'ombrellino è vero disse confoga che felix è molto malato ah lei pallidisce perché non me l'ha detto perché ma che cosa le viene in mente e gli si mise a camminare su e giù per la stanza lei è davvero sconvolta la prego si sieda mi risponda certo che è malato questo lei lo sa niente da fare gridò marì andiamo io lo so e anche lui lo sa ieri è stato dal professor bernard e glielo ha detto anche i professori possono sbagliarsi certe volte lei che lo ha in cura da tanto mi dica la verità in questi casi non c'è una verità assoluta già perché è un suo amico lei non vuole dirlo non è così ma glielo leggo in viso è vero allora è vero oddio oddio si calmi cara lei lo fissò all'improvviso allora è vero ebbene che sia malato lei lo sa già ma perché bernard glielo ha detto e poi poi ma la prego non mi dia delle speranze se non ce ne sono non si può prevedere con certezza può essere una cosa molto lunga sì lo so un anno alz si morse le labbra mi dica perché si è rivolto a un altro medico ma è ovvio sapeva che lei non gli avrebbe mai detto la verità è una sciocchezza disse irritato il dottore una vera sciocchezza non capisco come se fosse così urgente dire a uno in quel momento la porta si aprì ed entrò felix lo sapevo disse scorgendo marì me ne combini delle belle e scramò il dottore proprio delle belle caro alfred lascia perdere le frasi di circostanza ribatte felix ti ringrazio di cuore delle tue buone intenzioni hai agito da amico ti sei comportato in maniera lodevole marì lo interruppe dice che il professore certamente lascia stare mentre rupe felix finché è stato possibile l'avete fatto bene a farmi vivere nell'illusione ma adesso sarebbe una commedia di cattivo gusto sei un bambino disse alfred vi sono persone in giro per vienna a cui è stata predetta vent'anni fa la morte imminente ma la maggior parte di queste è già sepolta alfred continuava ad andare su e giù per la stanza comunque da ieri a oggi non è cambiato niente ti riguarderai ecco tutto mi darai più retta di prima questo è l'unico risvolto positivo della faccenda appena una settimana fa era qui da me un signore di 50 anni lo so lo so interruppe felix quel signore di 50 anni che a 20 anni era dato per spacciato e ora sprizza salute da tutti i pori e ha otto figli tutti sani cose di questo genere succedono non c'è da dubitarne replicò alfred ma sai ribatte felix io non faccio parte di quella categoria di persone alle quali succedono i miracoli miracoli esclamò alfred sono cose del tutto normali ma lo guardi bene disse marie trovo che tu abbia un aspetto migliore di quest'inverno deve solo riguardarsi disse alfred e si fermò di fronte all'amico andrete in montagna lì potrete oziare come si deve quando dobbiamo partire domandò marie sollecita stupidaggini disse felix e in autunno andrete nel sud e la prossima primavera chiese felix sarcastico speriamo che tu sia guarito si guarito rise felix guarito di sicuro non più sofferente lo dico sempre sclamò il dottore tutti questi grandi clinici non sono proprio degli psicologi è perché non si rendono conto che non sopportiamo la verità ribatte felix non esistono delle verità ti dico quest'uomo ha pensato bene di non darti tregua perché tu non prenda le cose alla leggera di aver più o meno ragionato in questi termini se poi nonostante le sue previsioni guarirai non ci farà certo una brutta figura ti ha messo soltanto in guardia lasciamo perdere questi discorsi puerili intervenne a questo punto felix ho parlato molto seriamente con il professore e gli ho fatto capire che dovevo avere una certezza problemi familiari in che fa sempre una certa impressione e poi devo confessarti in tutta sincerità che l'incertezza mi era divenuta ormai insopportabile come se ora tu avessi la certezza sbottò alfred sì ora ho la certezza fatica sprecata la tua ormai si tratta soltanto di vivere quest'ultimo anno nella maniera più equilibrata possibile vedrai caro alfred sarò un uomo che se ne andrà da questo mondo con un sorriso su non piangere miez non immagini come sarà bello questo mondo anche senza di me non credi alfred andiamo non fai che tormentare inutilmente questa povera ragazza è vero sarebbe più ragionevole finirla subito lasciami miez vattene lasciami morire da solo mi dia del veleno gridò improvvisamente marie ma siete tutti e due impazziti esclamò il dottore del veleno non voglio vivere neanche un secondo più di lui e deve crederlo non vuole credermi ma perché perché miez ascolta voglio dirti una cosa se dice ancora una volta questa assurdità solo una volta ancora sparirò senza lasciare traccia non mi vedrai più non ho alcun diritto di incatenare il tuo destino al mio non ho alcun diritto di incatenare il tuo destino al mio e non voglio neanche una responsabilità simile ascolta mio caro felix cominciò il dottore mi farai il piacere di partire oggi stesso non si può andare avanti così questa sera vi accompagnerò in stazione sperando che l'aria buona e il riposo vi facciano rinsavire a me sta anche bene disse felix mi è del tutto indifferente dove bene non interruppe alfred per il momento non c'è la minima ragione di disperarsi e poi risparmi a tito ai commenti malinconici marie si asciugò le lacrime e guardò il dottore con riconoscenza grande psicologo sorriso felix quando il medico è sbrigativo con il malato questi si sente subito bene prima di tutto sono tuo amico allora partire domani per la montagna allora siamo d'accordo in ogni caso ti ringrazio disse felix dando la mano all'amico andiamo ora fuori c'è qualcuno che si schiarisce la voce vieni miez ringrazio dottore disse marie congedandosi non mi deve ringraziare sia solo ragionevole e si prenda cura di lui arrivederci dunque sulle scale felix disse ad un tratto brava persona il dottore non ti pare sì ed è giovane e sano e forse altri 40 o magari 100 anni davanti a sé erano arrivati in strada intorno a loro tutti camminavano parlavano ridevano vivevano e non pensavano alla morte andarono ad abitare in una piccola casa vicino al lago era lontana anche dal villaggio essendo una delle ultime isolate propaggini dell'abitato lungo la riva dietro la casa i prati salivano in declivio e più in alto si stendevano i campi nel fiore dell'estate molto più indietro visibile solo a tratti il contorno sfumato delle montagne quando andavano sulla terrazza che si sporgeva sull'acqua chiara sorretta da quattro pali umidi e scuri vedevano sulla riva opposta una lunga catena di macigni scoscesi sulla cui sommità riposava il freddo splendore del cielo muto nei primi giorni di permanenza era scesa su di loro una pace meravigliosa della quale a stento riuscivano a rendersi conto era come se il destino avesse potere su di loro soltanto nella loro dimora abituale mentre qui in condizioni mutate non valesse più quanto altrimenti era stato decretato nei loro confronti da quando si conoscevano non avevano mai provato una solitudine così ristoratrice a volte succedeva che si guardassero come se avessero avuto una difficoltà di poco conto un litigio un malinteso di cui però non era più il caso di parlare felix si sentiva così bene in quelle incantevoli giornate d'estate che poco dopo il suo arrivo voleva di nuovo riprendere il lavoro marino lo permise non sei ancora guarito del tutto disse sorridendo e sul tavolino dove felix aveva accattastato libri e carte danzavano i raggi del sole e dalla finestra arrivava dal lago un'aria dolce e carezzevole ignara di tutta l'infelicità del mondo una sera come avveniva spesso si fecero portare in barca sul lago da un vecchio contadino era un'imbarcazione spaziosa e comoda con un sedile imbottito su cui maria era solita prendere posto mentre felix si straiava ai suoi piedi avvolto in un caldo plaid grigio che gli faceva da giaciglio e da coperta la testa poggiava sulle ginocchia di lei sull'ampia tranquilla distesa dell'acqua era sospesa una nebbia leggera e sembrava che il crepuscolo salisse lentamente dal lago diffondendosi a poco a poco verso la sponda quel giorno felix si azzardò a fumare un sigaro e guardava oltre l'acqua fino ai macigni sulla cui sommità si riversava il chiarore del sole pallido e dorato dimmi miez disse te la senti di guardare lassù dove indicò il cielo lassù nell'azzurro occupo io non ci riesco è inquietante marie sollevò gli occhi in alto restando così per qualche istante a me invece fa bene rispose davvero quando poi il cielo è così luminoso come oggi non ce la faccio quella lontananza quella lontananza spaventosa quando ci sono le nuvole non è così le nuvole in fondo ci appartengono ancora si guarda qualcosa di familiare domani pioverà di sicuro interruppe il barcaiolo le montagne sono troppo vicine oggi fermò i remi e così la barca scivolava silenziosa sulle onde sempre più ad agio felix si schierì la voce strano non sopporto ancora il sigaro buttalo via allora felix rigirò tra le mani il sigaro acceso lo buttò in acqua e senza voltarsi verso marie disse allora non sono ancora guarito del tutto dai disse lei e tu dentro la domanda e accalazzandogli con dolcezza i capelli che cosa faremo se comincia a piovere dovrai lasciarmi lavorare non puoi ancora ma risichino su di lui e lo guardò negli occhi si accorse che le sue guance erano arrossate scaccerò io i tuoi cattive pensieri ma non sarà meglio tornare a casa comincia a far fresco fresco io non lo sento certo con quel ple di caldo esclamò da egoista quale sono dimenticato del tutto il tuo abito estivo andiamo disse albercaiolo che con delle vigorose remate mi portò vicino a casa in quel momento marie si accorse che felix si teneva il polso sinistro con la mano destra ma che cosa hai non sono ancora guarito del tutto ma ho la febbre un bel guaio di sicuro ti sbagli disse marie tesa andrò a cercare un dottore sì certo potrai anche averne bisogno avevano raggiunto la riva e scesero a terra nelle strade era quasi buio ma era ancora rimasto il calore del giorno mentre marie preparava la cena felix rimase tranquillo in poltrona marie disse all'improvviso la prima settimana è trascorsa dalla tavola appena parecchiata marie gli andò vicina abbracciandolo che cos'hai adesso felix si divincolò dai smettila si alzò e si sedette a tavola marie lo seguì felix tamburellava con le dita sulla tavola mi sento così indifeso capita all'improvviso ma felix felix avvicinò la sua sedia a quella di lui felix guardava attonito per la stanza poi scosse la testa di lato come se no riuscisse a capacitarsi di qualcosa e mormorò tra i denti indifeso indifeso nessuno mi può aiutare la faccenda in sé non è così tremenda ma all'essere così indifesi felix ti prego ti stai agitando certamente non sarà niente vuoi per tua maggiore tranquillità che vada a chiamare il dottore ti prego smettila con questo dottore scusa se continuo a parlarti della mia malattia ma non accadrà più su versami da bere sì da bere grazie parla allora di qualcosa ma cosa qualunque cosa leggi se non ti viene in mente niente scusa dopo mangiato naturalmente mangia ora mangerò anch'io felix si servì ho persino appetito la cena è di mio gusto bene allora disse marì con un sorriso sforzato e mangiarono e bevero i giorni successivi portarono una pioggia calda a volte restavano seduti in camera a volte in terrazza finché si faceva sera leggevano o guardavano il paesaggio dalla finestra oppure felix osservava marì intenta a cucire a volte giocavano a carte e lui le insegnò anche i primi rudimenti degli scacchi altre volte felix si stendeva sul divano e lei seduta accanto a lui gli leggeva qualcosa furono giorni essere tranquilli e felix si sentiva proprio bene era contento che il cattivo tempo non potesse nuocergli anche la febbre non tornò un pomeriggio quando per la prima volta dopo tanta pioggia il cielo sembrò schiarirsi si sedettero nuovamente in terrazza e felix disse tutta un tratto senza riallacciarsi a un discorso precedente la gente di questo mondo si sa è tutta condannata a morte marì alzò gli occhi dal lavoro dunque proseguì immagina per esempio che qualcuno ti dica cara signorina lei morirà il primo maggio 1970 passeresti il resto della tua vita nel terrore di quel primo maggio sebbene oggi tu non creda certo di arrivare a 100 anni lei non rispose felix continuò a parlare guardando in tento il lago scintillante al riflesso dei raggi del sole che facevano capolino tra le nuvole altri invece se ne vanno in giro fieri e sani e un accidente qualunque se li porta via nel giro di poche settimane ma non pensano affatto di dover morire non è così ascolta disse marì non pensare a queste sciocchezze ormai dovresti sapere anche tu che guarirai lui sorrise certo tu sei proprio uno di quelli che guariscono felix scoppiò in una risata bambina mia credi veramente che io mi lasci abbindolare dal destino credi che mi lasci ingannare da questo benessere apparente con cui la natura ora mi rende felice si dà il caso che io sappia a che punto sono e il pensiero della morte vicina fa di me un filosofo come è successo anche ad altri grandi uomini ma smettila una buona volta oh mia cara signorina io devo morire e lei non deve neanche avere il leggero fastidio di sentirmene parlare marì mise da parte il lavoro e gli si avvicinò io sento disse in tono di sincera convinzione che non ti perderò non puoi certo essere tu a giudicare come ti stai riprendendo devi smettere di pensarci e ogni ombra uscirà dalla nostra vita felix la osservò lungamente sembra proprio che tu non riesca a capirlo bisogna proprio mettertelo davanti guarda prese in mano il giornale cosa c'è scritto 12 giugno 1890 bene 1890 e ora immagina che al posto dello zero ci sia uno a quell'epoca tutto sarà finito già da un pezzo lo capisci adesso gli strappò il giornale di mano e lo scagliò per terra con rabbia il giornale non ne ha colpa disse felix con calma ed un tratto alzandosi di scatto come allontanando da sé tutti i pensieri con una decisione improvvisa esclamò guarda che bello il sole è sospeso sull'acqua e là disporse e guardò dalla terrazza dalla parte opposta dove si stendeva la campagna come ondeggia nei campi vorrei fare due passi fin lì non sarà troppo umido vieni ho bisogno di uscire all'aria aperta marino nebbe il coraggio di contraddirlo presero il cappello si buttarono il cappotto sulle spalle e imboccarono il cammino che conduceva i campi il cielo si era quasi completamente schiarito sulla catena dei monti in lontananza passavano le bie bianche sfumate era come se il verde dei prati si perdesse nel bianco e nell'oro tutto intorno arrivarono ben presto al sentiero in mezzo al grano e lì dovettero camminare l'uno dietro l'altro mentre gli steli si piegavano frusciando al loro passaggio e presto arrivarono in un bosco non troppo fitto dove i sentieri erano ben curati e alcune panchine erano collocate a brevi intervalli qui proseguirono a braccetto non è bello qui esclamò felix è questo profumo non credi che ora dopo la pioggia interruppe marì senza finire la frase lui face un gesto di impazienza col capo finiscila ti pare questo il momento non fa piacere che te lo ricordino sempre man mano che procedevano il bosco si faceva sempre più luminoso attraverso il fogliame scintillava il lago distante ormai non più di un centinaio di passi un esile striscia di terra dove il bosco finiva tra radici e spuglie si allungava nell'acqua c'erano delle panchine di legno con davanti dei tavolini e lungo l'acqua si allungava uno steccato di legno si era levato un leggero vento serale che sospingeva arriva le onde ora il vento soffiava tra i cespugli e gli alberi e dalle foglie ancora umide scendeva qualche goccia sull'acqua si posava la luce stanca del giorno che muore non avevo mai immaginato disse felix quanto potesse essere bello tutto questo sì è incantevole no tu non lo sai esclamò felix tu non puoi saperlo non devi separartene felix avanzò di poco e lentamente e si appoggiò con le braccia al piccolo steccato i cui paletti di sostegno erano lambiti dall'acqua guardò a lungo la superficie scintillante poi si girò marì era dietro di lui il suo sguardo triste per le lacrime trattenute vedi disse felix in tono scherzoso lascio tutto questo a te sì sì perché mi appartiene il segreto del senso della vita al quale sono arrivato è la sensazione impetuosa del possesso totale potrei fare ciò che voglio di tutte queste cose potrei far sbocciare i fiori su quella nuda roccia e potrei scacciare dal cielo le bianche nuvole non lo faccio proprio perché tutto è bello così com'è cara potrei capirmi soltanto quando sarai sola soltanto allora avrai la netta sensazione che tutto ti appartenga la presse per mano e la tirò a sé poi con l'altro braccio fece un gesto per mostrarle tutte quelle meraviglie tutto questo tutto questo disse poiché lei continuava a tacere con gli occhi attoniti e senza lacrime si interruppe bruscamente e disse ora però torniamo a casa in crepuscolo era vicino presero il cammino lungo la riva e ben presto arrivarono a casa è stata proprio una bella passeggiata disse felix marita a noi la ripeteremo spesso miaz si rispose lei e non ti tormenterò più aggiunse in tono disprezzante compassione una dei pomeriggi seguenti felix decise di rimettere mano ai suoi lavori quando per la prima volta volle far scorrere la matita sulla carta guardò con curiosità maligna marì per vedere se lo avrebbe trattenuto ma lei non disse nulla ben presto mise di nuovo da parte carta e matita e prese il primo libro che gli capitava lo distraeva di più non riusciva ancora a lavorare doveva prima raggiungere un totale disprezzo della vita per poi attendendo sereno l'eternità muta scrivere come un saggio le sue ultime volontà era questo che voleva non le ultime volontà che i comuni mortali scrivono e che tradiscono sempre la paura recondita della morte questo scritto non doveva neppure trattare di cose concrete che alla fine sarebbero a loro volta perita una volta scomparso lui le sue ultime volontà dovevano essere una poesia un silenzioso e sorridente congedo dal mondo che egli aveva lasciato dietro di sé a marì non rivelò nulla di questa idea non lo avrebbe capito si sentiva così diverso da lei con un certo orgoglio le sedeva di fronte nei lunghi pomeriggi quando lei come sempre si era assopita sul libro e i riccioli scomposti le inanellavano la fronte il suo autocompiacimento aumentava pensando a quante cose era capace di nasconderle e si sentiva così solo così importante e quel pomeriggio non appena gli occhi di lei si chiusero come al solito se ne andò di soppiatto passeggiò nel bosco intorno a lui regnava la quiete dell'affoso pomeriggio estivo e in quel momento capì che poteva succedere quel giorno stesso tirò un respiro profondo e si sentì davvero leggero davvero libero proseguì sotto l'ombra fitta degli alberi la luce smoltata del giorno fluiva benefica su di lui percepiva tutto con felicità l'ombra la quiete l'aria vellutata e godeva non sentiva dolore al pensiero di perdere tutta questa vita così amabile perdere perdere disse tra sé sottovoce ancora un respiro e quando l'aria mite leggera gli penetrò nel petto d'un tratto non riuscì più a capacitarsi di essere malato e invece era malato era perduto improvvisamente ebbe come una illuminazione non ci poteva credere era per questo che si sentiva così libero così bene era per questo che oggi gli pareva arrivato il momento giusto non aveva lasciato dietro di sé il piacere di vivere lo aveva soltanto abbandonato la paura della morte non credeva più alla morte sapeva di essere tra coloro che guariscono mi sembrò che qualcosa di assopito in un angolo recondito della sua anima si risvegliasse sentiva il bisogno di aprire di più gli occhi di camminare a grandi passi di respirare più profondamente il giorno diventava più chiaro e la vita più viva era dunque questo era questo e perché perché d'un tratto doveva di nuovo inebriarsi di speranza speranza era più che speranza era certezza quella stessa mattina la malattia lo aveva tormentato gli aveva stretto la gola e adesso adesso era sano era sano sano disse ad alta voce era arrivato all'uscita dal bosco davanti a lui il lago con la sua superficie turchina tranquilla si sedette su una panchina e restò lì seduto con una sensazione di gran benessere lo sguardo rivolto all'acqua meditò su quella stranezza per cui la gioia della guarigione gli era potuta apparire come il piacere di un orgoglioso commiato dalla vita un fruscio leggero dietro di lui non fece neanche in tempo a voltarsi era marì gli occhi le brillavano il viso era leggermente arrossato che cosa c'è perché sei andato via perché mi hai lasciata sola mi hai fatto prendere una gran paura ma cosa stai dicendo le rispose facendola sedere vicino a sé sorrise e la baciò le sue labbra erano calde piene vieni disse sottovoce e la tirò sulle ginocchia lei si strinse a lui passandogli le braccia intorno al collo era così bella dai capelli biondi veniva un profumo eccitante e lui sentì una tenerezza immensa per quella creatura così docile così profumata che si stringeva al suo petto gli vennero le lacrime agli occhi e le prese le mani per baciarle quanto la amava dal lago veniva un rumore sottile come un sibilo sollevarono entrambi lo sguardo si alzarono e si avvicinarono a braccietto alla riva videro il battello a vapore in lontananza aspettarono che si avvicinasse fino a distinguere le figure delle persone in coperta poi ritornarono sui propri passi attraversando il bosco per arrivare a casa camminavano lentamente a braccietto sorridendosi di tanto in tanto ritrovarono le parole di un tempo le parole dei primi giorni del loro amore le dolci domande della tenerezza trepidante e delle espressioni appassionate della più lusinghiera rassicurazione ed erano sereni ed erano tornati a essere fanciulli ed erano felici era arrivata un'estate rovente e infuocata dai giorni torridi e brucianti dalle notti tiepide e sensuali ogni giorno era uguale al precedente ogni notte a quella trascorsa il tempo si era fermato ed erano soli si curavano solo l'uno dell'altra il bosco il lago la piccola casa questo era il loro mondo le avvolgeva un'afa piacevole in cui non pensavano più notti allegre spensierate giorni pigri e teneri passavano fuggevoli successe una di quelle notti la candela era ancora accesa e marie che giaceva insonne si levò a sedere sul letto osservò il volto tranquillo del suo amante che dormiva profondamente ascolto al suo respiro era ormai fuori dubbio ogni ora lo avvicinava sempre più alla guarigione si sentì colma di un'indescrivibile pienezza e si chinò su di lui con il desiderio di sentire il soffio del suo respiro sulle guance com'era bello vivere e lui era tutta la sua vita lui solo ora lo aveva ritrovato lo aveva ritrovato per sempre un respiro del dormiente diverso dai precedenti la turbò era un gemito sommesso soffocato sulle sue labbra leggermente dischiuse apparve un'espressione di dolore e mali spaventata notò gocce di sudore sulla fronte aveva reclinato leggermente il capo poi le labbra si richiusero il volto si era fatto di nuovo sereno e il respiro prima affannoso riprese regolare quasi impercettibile marie si sentiva in preda un'angoscia che la tormentava avrebbe voluto svegliarlo stringersi a lui sentire il suo calore la sua vita la sua esistenza uno strano senso di colpa la pervase e la fiducia gioiosa nella guarigione le sembra improvvisamente un atto di temeralietà e ora voleva convincersi che non si era trattato di una fiducia incondizionata bensì di una speranza e di una gratitudine per le quali non meritava una punizione così dolorosa si ripromise di non essere più tanto disinvolta e felice a un tratto tutto il tempo festoso le sembrò come un momento frivolo e peccaminoso che dovevano scontare certo ma qualunque cosa fosse il peccato nel loro caso non si trattava forse di qualcosa di diverso di amore che può fare miracoli e non erano state forse proprio quelle ultime dolci notti ad avergli ridato la salute un gemito agghiacciante proruppe dalla bocca di felix nel dormiveglia balzò a sedere sul letto pieno di paura e con gli occhi sbarrati fissava il vuoto marino riuscì a soffocare un grido e felice si svegliò del tutto cosa c'è cosa è successo proruppe marino trovava le parole sei tu che hai gridato marì ho sentito gridare respirava fannosamente mi sembrava di soffocare ho anche sognato non so più cosa mi sono così spaventata balbato marì sai marì ora ho anche freddo ma è naturale rispose lei se fai brutti sogni questo non c'entra fece lanciando un'occhiata ai rosa ho ancora la febbra ecco cos'è batteva i denti si rimise giù e si tirò addosso la coperta marì si guardò intorno disperata devo voi niente dormi sono stanco vorrei dormire anch'io ma lascia accesa la luce chiuse gli occhi e tirò la coperta fin sotto la bocca marì non azzordò più altre domande sapeva quanto lo esasperava sentirsi oggetto di compassione quando non si sentiva bene felix si addormentò dopo lunghi minuti marì invece non riuscì più a prendere sonno ben presto cominciarono a penetrare nella stanza le grigie strisce di luce dell'alba quei primi pallidi segni del giorno imminente fecero molto bene a marì era come se qualcosa di amico di sorridente venisse a farle visita sentì l'insolito desiderio di andare incontro al giorno scese silenziosamente dal letto indossò in fretta la vestaglia e andò in terrazza il cielo le montagne il lago tutto era ancora immerso in un grigiole oscuro incerto provava un piacere particolare nello sforzarsi per distinguere meglio i contorni si sedette sulla poltrona immerse lo sguardo nella luce dell'alba un piacere indicibile la pervase mentre era seduta di fuori nella quiete profonda del giorno estivo che spuntava tutto intorno era così tranquillo così dolce senza tempo era tanto bello restare sola in quella quieta intensa lontana dalla stanza angusta e soffocante e improvvisamente si rese conto con piacere si era levata dal fianco di felix stava lì volentieri adesso era sola volentieri per tutta la giornata ne tornarono alla mente i pensieri di quella notte non più angosciosi e inquietanti come nel buio ma ormai chiari tali da spingerla a prendere delle decisioni per prima cosa stabilì di respingere quanto più possibile l'impetuosità dell'amore di felix anzi non capiva perché per tutto quel tempo non le fosse venuto in mente sarebbe stata così abile e dolce da far apparire il suo comportamento non come un rifiuto ma come un amore nuovo di livello più alto ma non ebbe bisogno di molta abilità né di dolcezza da quella notte tutto l'impeto della passione sembrò scemare in lui trattava marì con una tenerezza svogliata che da prima la tranquillizzò ma poi finì per stupirla lui leggeva molto di giorno o faceva solo mostra di leggere da che marì poteva in un dirado notare come guardasse lontano al di là del libro il loro conversare toccava le mille faccende di tutti i giorni niente di importante e tuttavia marì non aveva l'impressione di essere esclusa dai suoi pensieri più segreti tutto procedeva con grande naturalezza come se quella sua calma quella sua apatia fossero soltanto la pacifica spossatezza di un convalescente alla mattina le stava a lungo in letto mentre lei aveva preso l'abitudine di uscire alle prime luci dell'alba sedeva in terrazza oppure arrivava fino al lago dove in una barca senza allontanarsi troppo dalla riva si faceva cullare dalle onde qualche volta andava nel bosco e di solito al ritorno da queste brevi sortite mattutine entrava in camera a svegliarlo era contenta del suo sonno così sano e sembrava un buon segno non sapeva che lui molto spesso di notte si svegliava e non aveva visto il suo sguardo tristissimo posarsi su di lei ancora immersa nel profondo sonno della sana giovinezza un giorno che aveva di nuovo preso la barca mentre i primi raggi dell'alba adoravano il lago fu colta all'improvviso dal desiderio di spingersi più in là nell'acqua chiara e luccicante si allontanò di un buon tratto ed essendo inesperta nel remare fece una fatica eccessiva e questo aumentò ancora di più il piacere della gita ma nemmeno di così buon mattino era possibile restare sull'acqua da soli due o tre barche incrociarono quella di marie e a lei sembrò che qualcuna si avvicinasse intenzionalmente un canotto elegante guidato da due giovanotti sfiorò veloce la sua barca i due signori ritirarono i remi e salutarono affabilmente togliendosi il petto e storridendo marie riguardò sorpresa e rispose spontaneamente con un saluto poi quasi distinto si voltò a guardare i due giovani anch'essi si erano voltati di nuovo e salutarono ancora così a un tratto si rese conto di non essersi comportata correttamente e per quanto glielo concedesse la sua scarsa perizia prese a remare veloce veloce in direzione di casa ci mise mezz'ora per ritornare e arrivò tutta accaldata e spettinata già dall'acqua aveva scorto felix seduto in terrazza e si precipitò in casa turbata come sentendosi in colpa corse al balcone abbracciò felix alle spalle e lo interpellò con allegria eccessiva indovina chi è lui si sciolse piano dall'abbraccio e la guardò imperturbabile ma cosa ti prende cos'hai da essere tanto allegra perché ti ho ritrovato ma così accaldata scotti addirittura sono così felice così felice scostò con fare balzoso il plaid che avvolgeva le sue ginocchia e gli si sedette in grembo era irritata per il proprio imbarazzo e per l'espressione infastidita di lui e lo baciò sulle labbra ma cos'hai da essere tanto contenta non ne ho forse motivo sono tanto felice che si inceppò e poi riprese che si sia allontanata da te cosa domandò felix e nella sua voce c'era un tono di diffidenza ormai lei doveva andare avanti non c'era niente da fare beh la paura la paura della morte vuoi dire non pronunciare quella parola perché dici che si è allontanata da me anche da te non ti pare e il suo sguardo si fece indagatore quasi maligno e mentre invece di rispondere lei giocava con i suoi capelli e accostava la bocca alla sua fronte lui piegò indietro il capo e proseguì crudele e freddo non avevi forse l'intenzione almeno un tempo di unire il tuo destino al mio così sarà disse lei vivace e allegra no non sarà così interruppe felix serio perché ci culliamo nell'illusione non si è affatto allontanata da me lei si avvicina sempre di più lo sento ma si era allontanata inavvertitamente da lui appoggiandosi al parapetto della terrazza felix si alzò e prese ad andare avanti e indietro sì lo sento comunque è mio dovere metterti al corrente di questo se accadesse di colpo prenderesti uno spavento terribile ti ricordo che è trascorso circa un quarto del tempo che mi resta forse sto cercando di convincermi che è necessario dirtelo mentre è solo la vigliaccheria che mi spinge a farlo sai in collera perché ti ho lasciato solo chiese marì preoccupata sciocchezze ribatte felix mi fa ancora piacere vederti serena io stesso per come mi conosco aspetterà quel giorno in serenità ma direi la verità non riesco a tollerare la tua allegria ti lascio libera insomma di separare il tuo destino dal mio fin dai prossimi giorni felix lui continuava ad andare su e giù per la terrazza e lei lo trattenne con entrambe le braccia ma riuscì a liberarsi comincia il periodo più ingrato finora sono stato un malato interessante un po pallido con un po di tosse un po melanconico questo può risultare piacevole per una donna ma ciò che sta per venire cara preferisco risparmiartelo potrebbe avvelenarti il ricordo di me ma ricercava in vano una risposta fissava persa del tutto certo penserai che è difficile accettare la mia proposta che essa potrebbe sembrare spietata e vile invece ti sto spiegando che non è così e che tu faresti un favore particolare a me e alla mia vanità se la accettassi perché voglio almeno che tu mi ricordi con dolore che tu versi su di me lacrime sincere ciò che invece non voglio è che tu stia giorno e notte seduta a china sul mio letto pensando fosse tutto già finito dal momento che comunque una volta o l'altra dovrà finire e che tu senta la mia morte come la tua liberazione lei cercava affannosamente una risposta qualunque ed esclamò resterò con te per sempre lui non diede importanza a quella frase non parliamone più tra una settimana penso andrò a vienna devo sistemare diverse faccende prima di lasciare questa casa sentirai di nuovo la mia domanda anzi la mia preghiera felix io interruppe con prepotenza ti proibisco di spendere ancora una parola su questo argomento sino al momento da me stabilito così lasciò la terrazza e si diresse nella stanza marie fece per seguirlo adesso lasciami ribatti con dolcezza voglio stare un po da solo marie rimase sulla stanza fissando ad occhi asciutti la distesa scintillante delle acque felix ormai era in camera e si era buttato sul letto fissò a lungo il soffitto poi si morse le labbra e serrò i pugni mormorando con una smorfia beffarda assegnarsi rassegnarsi da quel momento qualcosa di estraneo si era come insinuato fra di loro e nello stesso tempo furono presi dal bisogno neurotico di parlare lungamente insieme trattavano gli argomenti più ovvi con estrema prolissità e si sentivano angosciati quando interrompevano la conversazione a lungo discutevano da dove venissero le nuvole grigie sui monti di fronte che tempo avrebbe fatto l'indomani e perché l'acqua cambiasse colore a secondo delle diverse ore del giorno quando andavano a passeggio si allontanavano più di prima dalle vicinanze e prendevano la strada che portava ai tratti più popolati della riva del lago così avevano occasione di fare continue osservazioni sulle persone che incontravano se capitava che incrociassero dei giovanotti mario ostentava un atteggiamento particolarmente riservato e quando felix faceva delle osservazioni sulla tenuta estiva di un vogatore o di un alpinista mario rispondeva con inconscia sincerità di non averli affatto notati e si faceva convincere solo a fatica da felix a osservarli al prossimo incontro si sentiva imbarazzata dallo sguardo con cui allora la sfiorava capitava anche che camminassero per parecchi minuti in silenzio l'uno accanto all'altra a volte restavano seduti in terrazza senza dire una parola finché marie ricorreva alla lettura del giornale senza riuscire a nascondere l'intenzione con cui lo faceva anche se si accorgeva che lui non ascoltava più continuava a leggere contenta di sentire la propria voce contenta che fra di loro il silenzio non fosse più totale eppure nonostante tutti quegli sforzi estenuanti ognuno restava assorto nei suoi pensieri felix confessava a se stesso di aver recitato a marie negli ultimi tempi una commedia ridicola se avesse desiderato sul serio risparmiarle il dolore futuro sarebbe stato meglio sparire dalla sua vita avrebbe certo trovato un angolino tranquillo dove morire in pace si stupiva lui stesso di considerare tutto ciò con totale indifferenza ma quando cominciò a riflettere seriamente sull'esecuzione del piano quando in una notte terribilmente lunga e insonne se lo vide davanti nei particolari alzarsi d'andarsene senza un addio allo spuntare del giorno incontro alla solitudine e alla morte lasciarla in quella vita ridente e piena di sole per lui perduta si rese conto della sua assoluta impotenza sentì fino in fondo che non avrebbe mai potuto attuare il suo piano cosa poteva fare allora il giorno fatidico si avvicina inesolabile sempre più vicino al momento in cui dovrà andarsene che lei resterà qui tutta la sua esistenza non è altro che un'attesa di quel giorno nient'altro che una patetica dilazione peggiore della morte stessa se almeno non avesse imparato fin da giovane ad analizzarsi tutti i sintomi della malattia sarebbero passati inosservati o quasi la memoria gli riportava l'immagine di conoscenti consumati dal medesimo morbo che a poche settimane dalla fine continuavano a guardare al futuro sereni e speranzosi come malediceva il momento in cui l'incertezza lo avevo portato da quel medico che poi aveva messo alle strette a furia di bugie e di dignità simulata finché non gli era stata rivelata tutta la spietata verità e adesso cento volte condannato non si trovava in una situazione migliore di chi aspetti di essere giustiziato ogni giorno in attesa del boia e dell'esecuzione ma capitava anche di non riuscire ad afferrare neanche per un istante tutto l'orrore della sua esistenza in qualche angolo del suo cuore era in agguato maligna e lusinghiera a speranza che non voleva mai abbandonarlo del tutto la ragione però era più forte e gli dava un consiglio chiaro e freddo glielo dava senza tregua lo sentiva dieci cento mille volte nelle note interminabili di insonnia e nei giorni tutti uguali e tuttavia troppo rapidi aveva una sola via d'uscita e una sola salvezza non aspettare più non un'ora non un secondo in più ma farla finita sarebbe stato meno deprimente ed era già consolatorio il pensiero che nulla poteva costringerlo ad aspettare in qualunque momento bastava volerlo poteva farla finita ma lei lei soprattutto di giorno quando gli camminava accanto oppure quando gli leggeva qualcosa sembrava a felix che non sarebbe stato poi così difficile separarsene per lui maria era solo una parte dell'esistenza non apparteneva a lui ma alla vita che lo circondava e che un giorno ormai avrebbe dovuto lasciare ma c'erano degli altri momenti soprattutto la notte quando immersa nel sonno con le palpe per chiuse riposava accanto a lui bella e giovane dei momenti nei quali lui l'amava immensamente e quanto più serenamente dormiva quanto più il sonno sembrava isolarla dal mondo quanto più l'anima sognante sembrava lontana da quei vivi tormenti tanto più follemente lui la adorava e una volta la notte prima che lasciassero il lago apprese il desiderio quasi irrefrenabile di scuoterla da quel sonno prezioso che gli sembrava un'infedeltà crudele e di gritarle all'orecchio se mi vuoi bene muori con me muori adesso ma lasciò che continuasse a dormire glielo avrebbe detto la mattina dopo forse più spesso di quanto felix potesse supporre maria aveva sentito in quelle notti i suoi occhi fissi su di lei e più spesso di quanto felix potesse supporre aveva fatto finta di dormire mentre una paura paralizzante le impediva di aprire del tutto le palpebre attraverso cui a volte nella penombra intravedeva la figura di lui seduto sul letto il ricordo di quell'ultimo colloquio tanto impegnativo non la voleva lasciare tremava pensando al giorno in cui lui le avrebbe ripetuto quella domanda ma perché tremava la risposta era chiarissima resistere accanto a lui fino all'ultimo istante non staccarsi mai allontanagli con i basi ogni gemito dalle labbra ogni lacrima di dolore dalle ciglia dubitava forse di lei era possibile una risposta diversa come quale forse questa hai ragione ti lascerò voglio osservare per me solamente il ricordo del malato interessante ti lascio per poter amare meglio la tua memoria e poi non poteva non immaginarsi tutto ciò che sarebbe seguito a quella risposta se lo vedeva davanti freddo sorridente le tende la mano e dice ti ringrazio poi la lascia e lei si allontana rapida è un mattino d'estate splendente di mille gioie che si risvegliano e lei continua a correre nel mattino dorato solo per allontanarsi da lui il più in fretta possibile ed un tratto si sente libera da tutto e di nuovo sola libera dalla compassione non avverte più su di sé quel suo sguardo triste implorante morente che l'ha tormentata in quegli ultimi mesi appartiene alla gioia alla vita ha il diritto di essere di nuovo giovane si allontana e il vento del mattino le va dietro con un sorriso e come si sentì tanto più misera quando svanì di nuovo quella immagine dei suoi sogni confusi e soffriva del fatto che lei era apparsa e come la tormentava la compassione per lui come era brividiva pensando alla consapevolezza alla disperazione di lui e come lo amava come lo amava sempre più in profondità man mano che si avvicinava il giorno in cui lo avrebbe perso non aveva dubbi sulla sua risposta resistere al suo fianco soffrire con lui che cosa da poco vederlo aspettare la morte provare fino in fondo per tutti quei mesi la paura della morte come era insignificante tutto ciò lei vuole fare di più per lui il meglio il massimo se anche gli promettesse di uccidersi sulla sua tomba lui se ne andrebbe col dubbio che lei non lo farebbe davvero morirà con lui no prima di lui quando le rivolgerà la domanda avrà la forza di dire finiamola con questo tormento moriamo insieme moriamo subito e mentre si inebriava di questa idea quella donna di cui aveva visto l'immagine poco prima che correva attraverso i campi sfiorata dalle carezze del vento del mattino incontro alla vita e alla gioia quella donna che era poi lei stessa e sembrò indegna e meschina arrivò il giorno fissato per la partenza una mattina di meravigliosa mitezza come stesse tornando la primavera marie sedeva in terrazza e la colazione era pronta quando felix uscì dal soggiorno e sospirò profondamente che splendida giornata bellissima vero sai che ti dico marie che cosa lei proseguì in fretta come volesse rubargli la risposta di bocca restiamo ancora qui questo no però non torniamo subito a vienna oggi non mi sento troppo male faremo tappa da qualche parte lungo il tragitto come vuoi tu tesoro si senti d'un tratto così serena come non le capitava da tempo in quell'ultima settimana lui non le aveva mai parlato con tanta naturalezza penso cara che potremmo fermarci a salisburgo come vuoi c'è sempre tempo per tornare a vienna non ti pare e poi il viaggio in treno è troppo lungo del resto ribatte marì con viva la città non abbiamo alcuna fretta allora mezzo sono pronti i bagagli da un bel po possiamo andarsene anche subito penso sia meglio la carrozza sono quattro o cinque ore e il viaggio è molto più piacevole che in treno e gli scompartimenti troveremmo il caldo di ieri come vuoi tesoro lo invitò a finire e latte poi gli fece osservare lo splendido bagliore d'argento che giocava sulla cresta delle onde parlava molto in tono euforico felix rispondeva con calma e con garbo in ultimo marì si offrì di andare a noleggiare la carrozza con cui a mezzogiorno sarebbero partiti per salisburgo felix a noi sorridendo lei si mise subito il grande cappello di paglia baciò felix sulla bocca e corse giù in strada non le aveva fatto quella domanda e non gliela avrebbe fatta lo si leggeva chiaramente sulla sua fronte serena nulla di subdolo adesso nella sua gentilezza come invece capitava altre volte quando troncava apposta un discorso innocente con qualche parola maligna lei sapeva sempre in anticipo quando stava per succedere e a questo punto aveva la sensazione che felix le avesse fatto una grazia immensa nella dolcezza dell'uomo c'era qualcosa di simile a un dono a una riconciliazione quando tornò in terrazza felix stava leggendo il giornale che gli avevano appena portato marì esclamò facendo le cenno di avvicinarsi una cosa strana cosa legge un po qui quell'uomo ma sì il professor bernard è morto chi quello quello da cui io insomma quello che mi ha annunciato una situazione tanto tragica marì gli prese il giornale di mano come il professor bernard stava quasi per dire ben gli sta ma si trattene entrambi avevano la sensazione che quel fatto fosse per loro di grande importanza chi dall'alto della saccente saggezza di una salute incrollabile aveva cancellato ogni speranza del malato in cerca di aiuto proprio colui era stato eliminato in pochi giorni solo in quel momento felix si rendeva conto di quanto lo avesse odiato e al malato il fatto che fosse stato raggiunto dalla vendetta del destino sembra un auspicio dei più propizi mi sembrava che un fantasma funesto si allontanasse dal suo fianco marì gettò il giornale disse già cosa ne sappiamo noi del futuro lui riprese quelle parole avidamente cosa ne sappiamo noi del domani non sappiamo niente niente e dopo una breve pausa cambiò bruscamente argomento hai ordinato la vettura si rispose per le undici allora potremmo ancora fare una gita in barca non ti pare marì lo prese sotto braccio e si incamminarono verso il capanno delle barche sentivano di aver ottenuto una ben meritata soddisfazione arrivarono a salisburgo di pomeriggio tardi con grande stupore trovarono imbandierate quasi tutte le case della città le persone che incontravano erano vestite a festa e alcuni portavano coccarde nell'albergo dove scesero occupando una camera con vista sul mönchensberg informarono subito che quel giorno si sarebbe tenuto una grande sengenf li informarono subito che quel giorno si sarebbe tenuto una grande sengenfest e offrirono dei biglietti per il concerto della sera alle 8 nel kurr park splendidamente illuminato la loro camera si trovava al primo piano e sotto le finestre scorreva la salzach durante il viaggio avevano abbastanza dormito e adesso si sentivano così rinvigoriti che si fermarono ben poco in albergo e ancora prima del tramonto erano di nuovo in strada la città era invasa da un movimento incessante e gioioso sembrava che quasi tutti gli abitanti fossero in giro e i coristi con i loro bravi distintivi si mescolavano alla folla formando allegri gruppi si incontravano anche molti forestieri e persino dai villaggi lì intorno erano arrivati dei visitatori che si pavoneggiavano nei loro rustici abiti domenicali giù dai frontoni delle case sventolavano le bandiere con i colori comunali nelle vie più importanti gli archi di trionfo erano addobbati con i fiori per le strade fluttuava una marea di gente in gran confusione e su di essa si ribrava una bella sera d'estate mite e carica di profumi dalle rive della salzach che li aveva accolti con una piacevole quiete felix e marie erano finiti nel punto più animato della città dopo quel periodo sul lago così monotono e tranquillo quel frastuono inconsueto quasi quasi li stordiva ma ben presto recuperarono la loro superiorità di esperti cittadini e si abbandonarono spontaneamente a tutto quel movimento felix come anche in passato non amava però l'allegria della folla marie sembrò subito a suo agio e come una bambina si fermava davanti a delle donne in costume salisburghese e a certi coristi dalla statura imponente intorno alla vita la fusciacca porta stendardo che si affannavano lì davanti ogni tanto guardava in alto per ammirare decorazioni e rifiniture particolarmente raffinate in qualche edificio a felix che camminava un po indifferente al suo fianco si rivolgeva ogni tanto con un vivace guarda che bello ottenendo un tutta risposta a un cenno silenzioso del capo ma dimmi fece alla fine marie non è stata proprio una buona idea venire qui la guardò in modo da non lasciar trapelare niente e poi ribatte e magari vorresti anche andare al park per il concerto marie si limitò a un sorriso e poi rispose beh non possiamo darci subito alla pazza gioia quel sorriso quel sorriso lo infastidì ma davvero saresti certamente capace di pretenderlo da me cosa ti viene in mente disse marie spaventata e volse di nuovo lo sguardo dall'altra parte della strada dove in quel momento stava passando una bella coppia elegante e sorridente che aveva tutta l'aria di essere in viaggio di nozze marie passeggiava accanto a felix ma senza dargli il braccio spesso la folla li separava per qualche istante e allora marie lo raggiungeva mentre lui camminava rasente ai muri delle case palesemente contrariato di venire a contatto con quella marea intanto si era fatto più buio avevano acceso le luci dei fanali e in diversi punti della città soprattutto sugli archi di trionfo erano stati collocati dei lampioncini colorati la maggior parte della folla si stava dirigendo al courthouse l'ora del concetto era ormai prossima la prima felix e marie vennero trascinati dalla folla poi dall'improvviso lui le prese per il braccio e svoltarono in una viuzza laterale raggiungendo ben presto una zona della città più tranquilla e meno illuminata dopo aver camminato in silenzio per alcuni minuti si trovarono infine in un angolo sperduto della sponda della salzach da dove saliva sino a loro il mormonio monotono del fiume che cosa siamo venuti a cercare qui chiese marie pace fece felix in tono quasi perentorio e siccome lei non ribatteva niente felix continuò nervosamente con quelli non abbiamo a che fare non ci riguardano le luci colorate i canti spensierati la gente giovane che ride il nostro posto è qui dove non arriva neanche l'eco di quella festa e dove siamo soli ecco il nostro posto e poi passando dalla concitazione al sarcasmo il mio perlomeno intanto che felix parlava marie non si sentì profondamente turbata come era successo altre volte se lo spiegò per il fatto che gli aveva sentito fare troppo spesso quei discorsi e che lui evidentemente esagerava così gli rispose in tono pacato conciliante non mi merito tutto ciò a questo come già tante altre volte lui rispose beffardo scusa marie continuò a parlare rendendogli il braccio e stringendolo forte a sé nessuno dei due ha a che fare con questo posto sì invece disse felix quasi urlando no rispose marie dolcemente neppure io voglio tornare in quella calca mi darebbe fastidio così come lo date ma che motivo abbiamo di fuggire come fossimo due reietti proprio in quel momento arrivò fino a loro il suono pieno dell'orchestra attraverso l'aria terza immobile si potevano percepire quasi distintamente le singole note erano solenni squigli di tromba una overture evidentemente scelta per aprire il concerto andiamo disse felix improvvisamente dopo essersi fermato un momento ad ascoltare con lei la musica lontana è la cosa che mi rende più triste al mondo sì a noi marie è molto malinconica si avviarono in fretta verso la città la musica qui si sentiva meno chiaramente che laggiù in riva il fiume e quando furono di nuovo nelle strade illuminate e piene di gente marie sentì ritornare la tenerezza di un tempo per l'amante lo capiva come allora e gli perdonava tutto vogliamo ritornare domandò lei no perché hai sonno o no restiamo ancora un po all'aperto ti va molto volentieri se va bene anche a te ma non farà troppo fresco ma se fa caldo è addirittura affoso ribatte felix nervosamente ceneremo all'aperto molto volentieri arrivarono nei pressi del court park l'orchestra aveva terminato l'ouverture e dal parco illuminato a giorno arrivava adesso il brusio continuo di quella folla ilare e festosa alcune persone in ritardo per il concerto li superarono a passo spedito anche due coristi che si erano attardati passarono loro vicini in fretta marie si voltò a osservarli e subito dopo guardò felix con una certa ansia come se dovesse farsi perdonare lui si tormentava le labbra il volto segnato da una collera trattenuta a stento marie pensò che volesse dirle qualche cosa ma felix taceva il suo sguardo accigliato andava da lei ai due uomini che stavano ormai entrando nel parco si rendeva conto dei suoi sentimenti era stato oltrepassato da ciò che odiava a morte una parte di quello che avrebbe continuato ad esistere quando lui non ci sarebbe stato più qualcosa ancora giovane pieno di vita e di risate quando lui non avrebbe potuto più né ridere né piangere e anche accanto a lui ora stretta più di prima al suo braccio per via dei sensi di colpa camminava una persona giovane gioiosa e vitale che inconsciamente sentiva questa affinità lui lo sapeva ed era un tormento rabbioso e lacerante restarono in silenzio per lunghi istanti alla fine ebbe un sospiro profondo lei avrebbe voluto vederlo in faccia ma lui teneva il viso girato dall'altra parte tutto a un tratto felix fece qui potrebbe andare sulle prime marie non capì cosa volesse dire cosa fece lei erano fermi davanti a un ristorante accanto al court park un giardino con grandi alberi che spargevano le loro chiome sui candi di tavoli apparecchiati e con dei lampioni dalla luce fioca quella sera i clienti non erano numerosi c'erano molti posti liberi e alla fine scelsero un tavolo in un angolo in tutto c'erano una ventina di persone vicino a loro era seduta la giovane ed elegante coppia che avevano incontrato prima marie la riconobbe subito nel parco di fronte risuonò il coro un po smorzati ma in perfetta armonia arrivavano i suoni fino a loro e sembrava che le foglie degli alberi si muovessero al ritmo potente di quelle voci allegre felix aveva ordinato un buon vino del reno e sedeva con le palpebre socchiuse gustandolo goccia a goccia tutto abbandonato all'incanto della musica senza chiedersi da dove venisse marie gli si era accostata e lui sentiva sulle sue il calore delle ginocchia della donna dopo l'emozione di poco prima era calata a un tratto su di lui una sensazione piacevole di indifferenza e si rallegrava di essersi riuscito con la forza della volontà appena seduti infatti si era proposto con fermezza di superare quel dolore straziante era troppo spossato per esaminare che parte avesse avuto in ciò la sua volontà ma alcune considerazioni lo tranquillizzavano forse aveva interpretato lo sguardo di marie in modo più negativo di quanto meritasse forse lei avrebbe guardato allo stesso modo chiunque altro infatti stava guardando la coppia di estranei al tavolo vicino non diversamente da come prima aveva fatto con quei due coristi il vino era buono la musica risuonava come un invito la sera estiva era di una dolcezza inebriante e quando felix guardò marie vide nei suoi occhi una luce infinita di bontà e amore e voleva immergersi con tutto il suo essere nel presente chiese alla sua volontà un ultimo sforzo quello di farlo libero da tutto ciò che fosse passato e futuro voleva essere felice o almeno stordirsi ed un tratto ebbe una sensazione del tutto imprevista sconosciuta che giunse per lui come qualcosa di liberatorio togliersi la vita in quel momento non gli sarebbe costato fatica sì ora subito ma questo gli sarebbe sempre stato possibile facilmente avrebbe ritrovato un'atomosfera come questa la musica una lieve ebbrezza e una fanciulla così dolce ah già marie riflette forse una qualsiasi altra donna gli sarebbe stata ugualmente cara anche lei gustava il vino con piacere felix dovete ordinarne presto un'altra bottiglia da tempo non si sentiva tanto contento pensò che in fondo dipendeva tutto da un po di vino in più a cui non era abituato ma che importava l'importante era che questo fosse possibile davvero la morte non gli faceva più terrore era tutto così vuoto non è vero mezzo disse lei si strinse a lui cosa vuoi sapere è tutto così vuoto non ti pare sì tutto rispose lei tranne il fatto che ti amerò per l'eternità il tono serio con cui lo diceva si sembrò molto strano e gli era quasi indifferente si confondeva con tutto il resto era giusto era in questa maniera che bisognava in fin dei conti considerare tutto ah no non è il vino a farlo ragionare così il vino toglie di mezzo ciò che ci rende pigri e vili toglie importanza agli uomini e alle cose ecco avere una polverina bianca versarla nel bicchiere come sarebbe semplice gli venivano le lacrime agli occhi era come compiangesse se stesso il coro tacque risuonarono applausi e si gridare bravi poi un rumoreggiare attutito e poco dopo l'orchestra riprese con una polnese solenne e gaia felix batteva il tempo con la mano pensò voglio vivere come meglio posso quel po di vita che ancora mi resta ma in quell'idea non c'era niente di spaventoso piuttosto qualcosa di superbo di regale perché aspettare con angoscia l'ultimo respiro ciò che è poi il destino di tutti avvelenarsi i giorni e le notti con vane lucubrazioni mentre sente invece si nel profondo delle sue fibre di essere ancora matura e forte per i piaceri che la musica lo entusiasma il vino gli piace in maniera straordinaria e che più di tutto vorrebbe prendere tra le braccia quella fanciulla fiorente e coprirla di baci no è ancora troppo presto per tormentarsi l'anima e quando arriverà il momento in cui non avrà più entusiasmo né desideri una fine pronta e volontaria superba e regale prese la mano di marì e la tenne a lungo tra le sue sfiorandola con il fiato o sussurrò marì compiaciuta e fissò a lungo era bella 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 vieni le fece lei rispose disinvolta non ascoltiamo ancora un'altra melodia sì certo rispose apriremo la finestra e lasceremo che il vento ce la porti in camera sei già stanco chiese marì un po preoccupata le carezzò scherzose i capelli e sorrise sì andiamo allora si alzarono e lasciarono il giardino lei si strinse forte al suo braccio e appoggiò la guancia alla sua spalla sulla via del ritorno li accompagnò il coro che da poco i coristi avevano ripreso e che risuonava sempre più lontano allegro a tempo di walzer spavaldo nel ritornello un invito a camminare più sciolti e liberi l'albergo distava solo pochi minuti sulle scale la musica non si sentiva più ma quando entrarono in camera venne a loro incontro il ritornello a tempo di walzer in tutta la sua sfrenata allegria trovarono la finestra spalancata e l'azzurra notte di luna si riversava nella stanza come un'onda soffice di fronte si stagliava il munchesberg con il castello non c'era bisogno di accendere il lume sul pavimento il chiarore argentato della luna proiettava un'ampia fascia e solo gli angoli restavano immersi nel buio in uno di questi vicino alla finestra stava una poltrona sulla quale felix si abbandonò attirando marì compassione la baciò e lei lo baciò a sua volta di fronte nel parco la melodia era terminata ma gli applausi durarono tanto che fu concesso il bis marì si alzò e corse alla finestra felix la seguì ma cos'hai le chiese no no lui pestò il piede a terra perché no felix marì lo supplicò a mani giunte no chiese a denti stretti no devo piuttosto prepararmi a una morte dignitosa ma felix lei si era inginocchiata i suoi piedi e gli abbracciava le ginocchia e fece alzare la strinse a sé è proprio una bambina sussurrò e poi all'orecchio ti voglio bene sai cerchiamo di essere felici finché dura questo po di vita rinuncio a un anno di strazzi e di angoscia mi bastano soltanto qualche settimana qualche giorno qualche notte ma li voglio vivere non voglio negarmi niente niente e poi là in fondo se sei d'accordo e mentre la teneva con un braccio con l'altro indicava oltre la finestra dove scorreva il fiume adesso che i coristi avevano terminato il loro canto si poteva sentire il leggero mormorio delle acque marì non rispose nulla gli aveva circondato il collo con le mani felix beveva il profumo dei suoi capelli come la adorava sì ancora qualche giorno di felicità e poi tutto intorno si era fatto silenzio e marì si era assopita al suo fianco il concerto era finito da un pezzo e sotto la finestra passavano gli ultimi festaioli parlando ad alta voce ridendo felix pensò come era strano che quegli uomini così allegri fossero gli stessi il cui canto lo aveva profondamente commosso ma alla fine anche le ultime voci svanirono e ora udiva soltanto il fruscio lamentoso del fiume sì ancora qualche giorno e qualche notte e poi marì però era troppo felice di vivere avrebbe mai trovato il coraggio non era necessario però che lo avesse e neanche che sapesse qualcosa un giorno marì si addormenterà tra le sue braccia come adesso e non si sveglierà più e quando sarà proprio sicuro allora potrà andarsene anche lui ma non le dirà niente marì è troppo felice di vivere avrebbe avuto paura di lui e alla fine egli dovrebbe da solo terribile la cosa migliore sarebbe proprio ora subito dorme tanto bene premere con forza qui sul collo ed è fatta no sarebbe sciocco lui ha ancora parecchi attimi di felicità davanti a sé saprà quando è arrivato l'ultimo osservò marì ed ebbe la sensazione di tenere tra le braccia la sua schiava addormentata la decisione finalmente presa lo tranquillizzò un sorrisetto di gioia maligna gli serpeggiava sulle labbra quando nei giorni seguenti passeggiando con marì vedeva ogni tanto lo sguardo di un uomo sfiorarla con ammirazione e quando andavano in giro in carrozza o la sera sedevano in giardino o quando di notte la teneva abbracciata provava una superba sensazione di possesso come mai prima d'allora un'unica cosa che a volte lo turbava era che lei non lo avrebbe seguito di sua volontà ma aveva ragione di credere che anche questo gli sarebbe riuscito lei non osava più opporsi all'impedo del suo desiderio e le ultime notti si era abbandonata mai come prima con un trasporto di sogno e con gioia trepida lui sentiva avvicinarsi il momento in cui avrebbe osato dirle oggi moriremo ma rinviava quel momento a volte si immaginava una scena romantica lui che la pugnalava al cuore mentre lei esalando l'ultimo respiro baciava la mano adorata continuava a chiedersi se marì sarebbe arrivata a tanto ma gli restava ancora il dubbio una mattina la donna svegliandosi si spaventò terribilmente felix non le stava accanto si levò su di colpo e lo vide sulla poltrona vicino alla finestra pallido come un morto una testa abbandonata e la camicia aperta sul petto in preda a un'ansia tremenda si precipitò verso di lui felix aprì gli occhi cosa come si stringeva il petto e gemeva perché non mi hai svegliata esclamò lei torcendosi le mani va già meglio rispose lei corse a letto prese la coperta e gliela mise sulle ginocchia ma dimmi per amor di dio com'è che sei qui non lo so devo aver sognato qualcosa mi stringeva alla gola non potevo respirare non ho pensato a te qui alla finestra mi sono sentito meglio marie si era vestita alla svelta e aveva chiuso la finestra si era alzato un vento molesto e dal cielo grigio cominciava una pioggia sottile e portava un'aria umida nella stanza che di colpo perse tutta l'intimità della notte d'estate e diventò grigia e ostile un desolato mattino d'autunno arrivò ad un tratto infrangendo beffardo tutto l'incanto che essi avevano portato lì dentro con i loro sogni felix si era calmato del tutto perché quegli occhi così spaventati c'è qualcosa di strano brutti sogni ne ho fatti anche quando stavo bene ma lei non riusciva a calmarsi ti prego felix torniamo a casa torniamo a vienna ma tanto l'estate è finita guarda come tutto è triste e desolato là fuori se fa troppo freddo diventa anche pericoloso lui ascoltava attento con grande stupore proprio in quell'istante avvertì una sensazione piacevole come fosse un convalescente affaticato aspirava facilmente e nella spossatezza che lo pervadeva c'era qualcosa di dolce che lo cullava era convinto che dovessero lasciare quella città il pensiero del cambiamento di luogo gli faceva piacere era contento all'idea di starsene ben comodo nello scompartimento in un giorno freddo e piovoso come quello con la testa sul seno di marì bene disse andiamo via oggi stesso sì oggi stesso con il diretto di mezzogiorno se ti va ma non ti stancherai ma cosa ti viene in mente un viaggio così non è certo uno strapazzo non ti pare e poi non ti occuperai di tutto ciò che potrebbe affaticarmi d'accordo era contentissima di averlo convinto a partire senza sforzo alcuno cominciò subito a fare i bagagli pagò il conto ordinò la carrozza e alla stazione prenotò uno scompartimento felix si era preparato subito ma non lasciò la stanza e restò per tutta la mattina sdraiato sul divano guardava maria facendarsi e a volte sorrideva ma per lo più sonecchiava era tanto stanco tanto stanco e quando volgeva gli occhi verso di lei si rallegrava al pensiero che sarebbe rimasta con lui sempre e sarebbero morti insieme questo pensava come in un sogno presto presto pensò ma in realtà quel momento non gli era mai sembrato tanto lontano come se l'era già immaginato quel pomeriggio felix si trovò sistemato ben comodo nello scompartimento del treno coperto dal plaid con la testa sul seno di marie dal vetro del finestrino contemplava la giornata grigia vedeva la pioggia cadere leggera e si immergeva con lo sguardo nella nebbia dalla quale affioravano via via le colline e le case più vicine i pali del telegrafo sfrecciavano veloci i fili danzavano di quando in quando il treno si fermava in una stazione ma felix che stava giù sdraiato non poteva vedere la gente sulla banchina sentiva solo attutiti i passi le voci il trillo dei campanelli e dei segnali dal principio si fece leggere il giornale da marie ma lei doveva sforzare troppo la voce e presto vi rinunciarono erano tutti e due contenti di tornare a casa cominciava a imbrunire e piovigginava sempre felix sentiva il bisogno di vedere chiaro in se stesso ma i suoi pensieri non riuscivano ad assumere dei contorni precisi riflettè dunque qui è estraiato un malato grave è stato in montagna dove in estate vanno i malati gravi e qui è la sua amante che lo ha curato con fedeltà ma ora è stanca di farlo è tanto pallida o è soltanto l'effetto della luce ah sì la lampada là in alto è già accesa fuori però non è ancora buio del tutto e ora arriva l'autunno l'autunno è così triste e silenzioso questa sera saremo di nuovo nella nostra stanza mi sembrerà di non essere mai stato lontano ah è meglio che ma li stia dormendo non vorrei sentirla ci saranno in treno anche delle persone che erano alla festa ma io sono solamente stanco non sono malato c'è gente più malata di me in treno ah la solitudine fa bene com'è trascorsa oggi la giornata era oggi che io stavo disteso sul divano a salisburgo sembra tanto lontano già tempo e spazio cosa ne sappiamo noi l'enigma del mondo forse quando moriremo lo risolveremo gli risuonò all'orecchio una melodia sapeva che era soltanto il rumore del treno in corsa e tuttavia era una melodia un canto popolare russo monotono molto bello felix felix ma cosa c'è marie stava in piedi davanti a lui e gli accarezzava le guance hai dormito bene felix cosa succede tra un quarto d'ora siamo a vienna ma non è possibile è stato un sonno l'istoratore ti avrà fatto molto bene marie riordinò i bagagli il treno continuava a correre nella notte di tanto in tanto eccheggiava un fischio limpido e prolungato e attraverso i vetri lampeggiavano all'improvviso dei baglioli che si spegnevano subito stavano attraversando le stazioni dei sobborghi di vienna felix si alzò a sedere stare sdraiato tanto mi ha sfinito disse si sedette nell'angolo e guardò fuori da lontano riesciva già a scorgere le strade della città tutte illuminate il treno rallentò marie abbassò il finestrino e si affacciò entravano in stazione marie fece un cenno con la mano poi si rivolse a felix ed esclamò eccolo eccolo chi alfred alfred continuava a fare cenni con la mano felix si era alzato e guardava al di sopra delle sue spalle alfred si avvicinò in fretta allo scompartimento e tese la mano a marie salve ciao felix come mai qui ti ho telegrafato che arrivavamo fece pronta marie bell'amico davvero disse alfred scrivere lettere è un'invenzione ancora sconosciuta per te ma vieni adesso ho dormito tanto che sono ancora intontito disse felix ed ebbe un sorriso quando nello scendere gli scalini del vagone vacillò un po alfred lo tenne per il braccio e marie come se volesse appoggiarsi a lui gli afferrò l'altro sarete stanchi tutti e due no io sono distrutta disse marie vero felix che dopo uno stupido viaggio in treno uno ha le ossa rotte sessero lentamente la scala marie cercava di incontrare lo sguardo di alfred che però evitava il suo una volta fuori alfred fece cenno a una carrozza sono proprio contento di rivederti felix fece domani mattina verrò da te a fare una bella chiacchierata sono proprio intontito ripete felix alfred voleva aiutarlo a salire in carrozza o no non sto tanto male no salì e allungò la mano a marie vedi e marie gli tenne dietro a domani allora disse marie mentre dal finestrino della carrozza porgeva la mano ad alfred il suo sguardo esprimeva tanta ansia di domandare che alfred si sforzò di sorridere sì domani mattina disse farò colazione con voi la vettura si allontanò alfred indugiò ancora un po con un'aria seria povero amico mormorò tra sé il mattino seguente alfred arrivò molto presto e marie gli andò incontro devo parlare disse lei è meglio che prima vada da lui quando l'avrò visitato ciò che avremo da dirci avrà più senso alfred la vorrei pregare di una cosa soltanto comunque lo trovi a lui non dica niente ma cosa si è messa in mente certo non sarà tanto grave dorme ancora no e sveglio come è passato la notte ha dormito profondamente fino alle 4 poi ha cominciato ad agitarsi però adesso mi lasci andare da solo ma cerchi di ridare un po di serenità a questo visetto pallido non può farmela di presentarsi così da lui le strinse la mano con un sorriso ed entrò da solo nella camera di là felix aveva la coperta tirata fin sul mento e salutò l'amico con un cenno del capo alfred si siedette sul letto e disse eccoci finalmente a casa un'altra volta e sei ripreso in modo magnifico e spero che tu abbia lasciato tra i monti anche la tua malinconia oh sì rispose felix senza reagire non vuoi tirarti su un momento visite di mattina così presto le faccio solo da medico accomodati disse felix indifferente alfred visitò il malato fece alcune domande a cui seguirono risposte spicce e alla fine disse beh per adesso possiamo dirci soddisfatti smettila con queste frottole ribatte felix seccato smettila tu piuttosto con le tue manie prendiamo la questione di petto devi trovare la volontà di guarire e non di fare il fatalista non ti si addice proprio cosa dove fare insomma resterai un po di giorni a letto ha capito non ho voglia di alzarmi comunque tanto meglio felix si riprese solo vorrei sapere cosa mi è capitato ieri su serio alfred me lo devi spiegare mi sembra tutto un sogno confuso il viaggio l'arrivo come sono salito fin qui e poi come sono andato a letto cosa c'è da spiegare un colosso non sai certo e quando si è molto stanchi capita no alfred una fiacchezza come quella di ieri mi risulta completamente nuova anche oggi sono fiacco ma posso ancora ragionare lucidamente ieri non è che sia stato tutto spiacevole ma è il ricordo che mi risulta terribile se penso che una faccenda simile potrebbe capitarmi di nuovo in quel momento entrò marie ringrazia alfred fece felix ti nomina infermiera da oggi non posso più alzarmi e ho l'onore di presentarti il mio letto di morte marie parve terrorizzata non si faccia impressionare da questo matto disse alfred deve restare a letto qualche giorno e lei sarà tanto cara da prendersi cura di lui o alfred se solo tu sapessi che angelo al mio fianco esclamò felix con un entusiasmo carico di ironia alfred gli ha le istruzioni precise sulle cure e sulla giornata del malato e alla fine fece e adesso ti dico caro felix che ti farò visita da medico ogni due giorni perché di più non è necessario e altre volte non parleremo della tua salute verrò a fare quattro chiacchiere con te come al solito oddio esclamò felix che razza di psicologo quest'uomo ma riserva questi giochetti per gli altri pazienti soprattutto quando sono tanto puerili caro felix ti parlo da uomo a uomo ascoltami bene è vero sei malato ma è altrettanto vero che se sarai ben curato guarirai questo è ciò che posso dirti e con ciò si alzò felix lo seguì con uno sguardo diffidente gli sarebbe quasi tentati di credergli e a far tuo felix tagliò corto il dottore beh alfred ti sei tradito ancora una volta quel tono brusco con i malati gravi vecchio trucco disse il malato a domani disse alfred andando alla porta marie lo seguì voleva accompagnarlo rimanga mormorò in tono imperativo lei richiuse la porta vieni qui piccola disse felix intanto che lei ostentando un bel sorriso si dava da fare sulla tavola con gli aggeggi per il cucito sì qui accanto a me tu sei una brava brava bravissima ragazza pronunciò queste parole affettuose con tono amaro tagliente nei giorni seguenti marie non si allontana mai dal letto di felix con bontà e piena dedizione e diffondeva intorno a sé una serenità tranquilla e spontanea che potesse far bene al malato e che qualche volta gli faceva bene davvero c'erano dei momenti in cui l'allegria pacata che marie cercava di comunicare però lo irritava e se cominciava a chiacchierare di qualche notizia che aveva letto sul giornale oppure osservava che lui aveva una cera migliore o raccontava di come avrebbero presto organizzato la loro vita non appena fosse guarito lui stesso la interrompeva pregandola gentilmente di lasciarlo in pace e di risparmiarlo alfred veniva tutti i giorni e qualche volta anche due volte al giorno ma non sembrava preoccupato delle condizioni fisiche dell'amico parlava di conoscenti comuni raccontava qualche faccenda dell'ospedale e imbastiva discorsi di arte e di letteratura ma sempre in modo che felix non dovesse parlare troppo tutti e due la donna e l'amico si comportavano con tale naturalezza che felix qualche volta doveva allontanare a fatica le ardite speranze che lo assillavano si diceva allora che entrambi sicuramente si sentivano tenuti a recitargli quella commedia che con vario esito si inscena davanti ai malati gravi e tuttavia quando credeva semplicemente di partecipare alla loro commedia e di avervi il suo ruolo continuava a sorprendersi impegnato a discorrere del mondo come se dovesse passeggiare ancora per molti anni tra i vivi nella luce del sole ma si ricordava poi che proprio quello strano benessere nei malati come lui era considerato spesso un segno della fine vicina e allora pieno di amarezza lasciava cadere ogni speranza arrivò al punto di considerare positiva certe ansie indeterminate e certe cupe malinconie e quasi erali lì per rallegrarsene di nuovo scopriva quanto fosse assurda quella logica e concludeva che nel suo caso non esistevano né sapere né certezza aveva ripreso a leggere ma non provava piacere nei romanzi lo annoiavano e taluni specie quelli che aprivano ampie prospettive su esistenze fiorenti e vivaci lo mettevano proprio di cattivo umore si interessò ai filosofi e si fece dare da marie schopenhauer e nietzsche ma questi sapienti gli offrirono serenità solo per poco tempo una sera alfred trovò l'amico con gli occhi fissi cupamente nel vuoto dopo che aveva lasciato scivolare un libro di schopenhauer sulla coperta mentre marie intenta nel suo cucito gli era seduta accanto alfred ho da dirti una cosa esclamò felix con un po di eccitazione nella voce all'amico che stava entrando ricomincerò a leggere i romanzi come mai perlomeno sono favole sincere belli o brutti di artisti o di scribacchini ma questi signori invece mi accennò con gli occhi al libro sulla coperta non sono che dei miserabili poseur felix si alzò a sedere sul letto disprezzare la vita quando si è sani come un dio guardare la morte negli occhi quando si viaggia per l'italia e la vita fiorisce tutto intorno nei colori più forti questo secondo me è soltanto una posa si chiuda uno di questi tali in una stanza lo si condanni alla febbre e a con fatica gli si dica che tra il primo gennaio e il primo febbraio dell'anno successivo sarà seppellito e poi lo si lasci pure filosofare su via disse alfred che paradossi sono mai questi non lo capisci non puoi capirlo a me addirittura fa schifo sono tutti dei commedianti e socrates anche lui era un commediante gli uomini semplici hanno paura dell'ignoto e al massimo possono nasconderla si mistifica la psicologia del morente perché tutti i grandi della storia universale di cui si conosce la morte si sono sentiti in dovere di inscenare una commedia per i posteri e io che cosa faccio io allora quando sto qui a parlare con voi tranquillamente di cose che non mi riguardano più cosa faccio io allora dai non parlare tanto e soprattutto non dire assurdità di questo genere anch'io mi sento in dovere di fingere ma in realtà ho una paura immensa rabbiosa che i sani non riescono a concepire e questa paura ce l'hanno tutti anche gli eroi e i filosofi solo che proprio loro sono i migliori commedianti ora calmati però felix lo pregò marì anche voi due continuò il malato credete di guardare tranquillamente in faccia l'eternità proprio perché non riuscite ancora a farvene un'idea bisogna essere condannati a morte come un delinquente o come me solo allora se ne può parlare e il povero diavolo che va rassegnato al patibolo e il grande saggio che inventa aforismi dopo aver vuotato la coppa di cicuta l'eroe della libertà prigioniero che guarda sorridendo i fucili puntati contro il suo petto o storofingono io lo so e il loro controllarsi il loro sorriso è una posa poiché tutti hanno paura una paura atroce della morte una paura che è naturale come il morire stesso alfred era rimasto tranquillamente seduto sul letto e quando felix ebbe finito replicò comunque è insensato da parte tua parlare tanto e a voce tanto alta poi sei banale il più possibile e sei un grande ipocondriaco ma se stai così bene sclamò marì ma lo credo veramente chiese felix rivolto ad alfred dalle tu una spiegazione una volta per tutte caro amico ribatte il dottore sei solo tu che hai bisogno di una spiegazione ma oggi sei intrattabile sono costretto a rinunciarvi fra due o tre giorni se nel frattempo non avrai tenuto altre concioni potrai alzarti e allora potremmo fare anche un bel discorso sulla tua psicologia se solo non ti avessi capito fino in fondo disse felix sì sì va bene rispose alfred non abbia quell'aria tanto afflitta disse rivolto a marì anche questo signore un giorno o l'altro recupererà la ragione ma adesso ditemi perché non tenete la finestra aperta fuori c'è la più bella giornata d'autunno che uno possa immaginare marì si alzò e aprì la porta stava cominciando a imbrunire e l'alba che entrava era così rinfrescante che sentì il desiderio di farsi accarezzare a lungo da essa restò alla finestra e affacciò il capo le sembrò a un tratto di aver lasciato la stanza si sentì all'aperto e da sola erano molti giorni che non provava una sensazione così gradevole quando ritrasse il capo la investì il pesante odore di malattia di quella stanza che le opprimeva il petto come per soffocarla guardando alfred felix che parlavano fra di loro non riusciva a udire esattamente le loro parole ma non sentiva alcun bisogno di partecipare al discorso allora si affacciò di nuovo la via era vuota e silenziosa e solo dalla strada principale lì vicina si sentiva smorzato un rumore di carrozze dei passanti camminavano lentamente sul marciapiede di fronte davanti al portone erano ferme alcune donne di servizio che chiacchieravano e ridevano nella casa di rimpetto una donna giovane stava come lei affacciata alla finestra marie in quel momento non riusciva a capire perché quella donna non preferisse andare a spasso invidiava tutti tutti erano più felici di lei seguirono dolci e piacevoli le giornate di settembre la sera scendeva prima ma era tiepida e senza vento marie aveva preso l'abitudine ogni volta che lei era possibile di allontanare la sua sedia dal letto del malato per sedere vicino alla finestra aperta stava seduta ore intere soprattutto mentre felix dormiva c'era in lei ormai come una caduta di tensione una incapacità di rendersi conto della situazione addirittura una vera e propria avversione a pensare non esistevano ricordi né aveva prospettive per il futuro sognava ad occhi aperti e bastava farla contenta che dalla strada le venisse incontro un soffio di aria fresca ma di nuovo trasaliva quando dal letto di felix arrivava un gemito soffocato scoprì di avere perso un po alla volta il dono della compassione questa era ormai diventata sovra eccitazione nervosa il suo dolore un misto di paura e di indifferenza certo non aveva nulla da rimproverarsi e se il dottore come poco prima la definiva in tutta serietà un angelo lei non aveva motivo di sentirsi umiliata era stanca però infinitamente stanca da dieci dodici giorni non usciva più di casa ma perché perché doveva pensarci su sì comprese come in un lampo felix ne avrebbe sofferto restava volentieri con lui sì lo adorava come prima solo era stanca e ciò in definitiva era umano e il suo profondo desiderio di uscire qualche ora all'aria aperta si faceva sempre più vivo era puerile negarsi un piacere così alla fine lo avrebbe capito anche felix in quel momento si rese conto ancora una volta quanto immensamente lo amasse posto che voleva tenere lontana da lui persino la minima ombra di dispiacere aveva lasciato scivolare a terra il cucito e guardò di sfuggita il letto avvolto completamente dal buio della parete era calato il crepuscolo e il malato dopo una giornata tranquilla si era addormentato la sua insaputa sarebbe potuta addirittura uscire scendere girare l'angolo trovarsi di nuovo tra la gente camminare nello stad park o sul ring e infine davanti all'opera scintillante di lampade elettriche in mezzo alla folla di cui aveva un fortissimo l'impianto ma quando sarebbe stato ancora possibile soltanto quando felix fosse guarito e poi cosa sono per lei la strada il parco la gente che cos'è tutto questo senza di lui rimase in casa spostò la sua sedia accanto al letto di lui prese la mano del dormiente e la bagnò di lacrime silenziose tristi continuava ancora a piangere quando già da un pezzo i suoi pensieri si erano allontanati dall'uomo sulla cui mano e sangue scendevano quelle lacrime quando alfred il pomeriggio successivo fece visita a felix lo trovò più in forma che nei giorni addietro se andiamo avanti così gli disse tra qualche giorno ti farò alzare il malato accolse anche questo discorso come ogni altro rivoltogli con diffidenza e rispose con un secco sì sì ma alfred si rivolse a marie che era seduta vicino al tavolo e fece a dire la verità anche lei potrebbe avere una cera migliore anche felix che a quelle parole osservò più attentamente marie fu colpito dal suo eccezionale pallore di solito allontanava da sé i pensieri che ogni tanto gli venivano sulla bontà e sull'abnegazione di marie questo martirio a volte non gli sembrava del tutto sincero in aria paziente che marie ostentava lo infastidiva a volte desiderava che lei perdesse la pazienza attendeva il momento in cui marie si sarebbe tradita con una parola con uno sguardo per poterle rinfacciare duramente di non essersi lasciate ingannare neanche un istante che la sua ipocrisia lo disgustava che lo lasciasse morire in pace ora che alfred aveva accennato a lei maria rossì leggermente e sorrise mi sento benissimo disse alfred le venne vicino non la faccia non la faccia tanto semplice a suo felix la guarigione servirà ben poco se sarà poi lei ad ammalarsi ma sto benissimo veramente sia sincera qualche volta passeggia all'aria aperta non ne sento il bisogno dimmi felix marie non si allontana mai da te lo sai bene disse felix che è un angelo ma mi scusi marie questa è una sciocchezza vera e propria è sterile puerile logolarsi in questo modo bisogna che lei esca le assicuro che è necessario ma cosa pretende da me fece marie con un sorriso tirato non ne sento il minimo desiderio non ha importanza è già un brutto segno che lei non ne senta il desiderio uscirà oggi stesso se ne resti seduta per un'oretta allo stad park o se preferisce prenda una carrozza e si faccia un giro magari al prater in questa stagione è magnifico ma basta con i ma se va avanti così nella parte di un angelo farà la sua rovina si guardi un po' allo specchio lei si sta distruggendo mentre alfred parlava felix provò come un dolore fitto al cuore una rabbia soffocata lo tormentava gli sembrò discorgere nei tratti di marie un'espressione di sofferenza consapevole che esigeva compassione e come una verità che sarebbe stato temerario mettere in discussione gli balenò nella mente il pensiero che quella donna dovesse soffrire insieme a lui anzi morire con lui stava distruggendo nulla di più evidente forse pensava di mantenere guance rosee e occhi accesi mentre lui correva incontro alla fine ma alfred come può credere che questa donna sua amante abbia il diritto di proiettarsi oltre la sua ultima ora e forse lei stessa osa con collera e con bramosia felix studiava l'espressione del viso di marie intanto che il dottore continuava a ripetere con tono annoiato sempre le stesse cose alla fine si fece promettere che sarebbe uscita quel giorno stesso spiegandole che mantenere questa promessa faceva parte dei suoi doveri di assistenza esattamente quanto gli altri perché io non conto più niente pensò felix perché si lascia andare in rovina chi comunque oggi è già perduto allungò la mano ad alfred con grande distacco quando costui finalmente prese congedo lo odiava marie accompagnò il dottore soltanto fino alla porta e tornò subito da felix l'uomo giaceva con le labbra serrate la fronte profondamente corrugata dalla collera marie lo capiva lo capiva così bene si chinò su di lui con un sorriso felix tirò il fiato voleva parlare voleva gridarle in faccia un insulto spropositato gli sembrava che lo meritasse ma lei invece accarezzandogli i capelli sempre con quel suo sorriso stanco e paziente mormorò vicinissima alle sue labbra tenera ma io non esco felix non rispose per tutta quella lunga serata restò accanto a lui finché non si addormentò lì seduta il giorno dopo quando tornò alfred marie evitò di parlargli quel giorno però non sembrò interessarsi a lei si diede da fare solo con felix ma non disse più che ben presto avrebbe potuto lasciare il letto e il malato per una sorta di timore si trattenne dal fare domande si sentiva più debole che nei giorni precedenti aveva una riluttanza a parlare come prima non era mai successo e si trova contento quando il dottore se ne fu andato anche le domande di marie rispose di malumore sbrigativo e quando dopo ore e ore di silenzio verso la fine del pomeriggio lei gli chiese come stesse rispose cosa importa aveva incrociato le braccia dietro la testa chiuse gli occhi e dopo un po si addormentò marie gli restò accanto un poco osservandolo ma poi i pensieri le si confusero e cominciò a sognare tornata in sé sentì un curioso senso di benessere percorrerle le membra come si fosse ridestata da un sonno profondo e ristoratore si alzò e sollevò le tende che erano state abbassate sembrava che dal parco vicino il profumo di una estrema fioritura fosse venuto a perdersi in quella via angusta l'aria che si riversava nella stanza non le era mai sembrata tanto incantevole si voltò a guardare felix che continuava a dormire respirando tranquillo di solito in momenti del genere aveva provato una commozione che la teneva incatenata alla camera e che le infondeva una cuba malinconia quel giorno restò calma rallegrandosi che felix dormisse e senza conflitti interiori come se ciò fosse un'abitudine quotidiana decise con naturalezza di uscire per un'ora andò in cucina in punta di piedi raccomandò alla domestica di restare nella stanza del malato presa in fretta cappello e ombrellino e più che scendere volò giù per le scale ora era finalmente lì in strada e dopo aver percorso veloce qualche via silenziosa arrivò al parco e provò la felicità di guardare i cespugli gli alberi e al di sopra l'azzurro del cielo al tramonto che per tanto tempo aveva desiderato intensamente sedete su una panchina mentre le altre lì accanto erano occupate da bali e governanti nei viali dei bambini erano intenti a giocare ma siccome era ormai sera tutto quel movimento stava cessando e le ragazze chiamavano i bambini li prendevano per mano e lasciavano il parco una dopo l'altra presto marie restò quasi sola pochi passanti la superavano e di quando in quando si girava verso di lei un signore adesso si trovava lì fuori ma le cose come stavano veramente e sembrò arrivato il momento di considerare la situazione voleva trovare per i suoi pensieri parole chiare che potessero esprimere la sua interiorità resto con lui perché lo amo non faccio un sacrificio perché non potrei scegliere altrimenti cosa succederà quanto durerà ancora non c'è scampo e allora che cosa succederà cosa una volta volevo morire con lui perché ora siamo diventati tanto estranei pensa solo a sé vorrebbe ancora morire insieme a me e in quel momento ebbe la certezza che lui lo volesse ma non le comparve davanti l'immagine di un giovane trepidante che desiderasse stare con lei per l'eternità sentiva piuttosto che caparbio e invidioso la voleva trascinare con sé perché lei doveva appartenergli un giovane che si era seduto sulla panchina di fianco a lei fece un'osservazione e lei era tanto con la testa tra le nuvole che sul momento chiese distratta come ma poi si alzò e si allontanò svelta svelta nel parco gli sguardi di quelli che la incrociavano le riuscivano sgraditi uscita sul ring fece cenno a una carrozza e si fece portare in giro per la città era sera si mise ben comoda in un angolo della vettura e provò piacere in quel movimento sciolto e come spontaneo delle immagini mutevoli che le passavano davanti nella penombra notturna o nella luce tremula dei fanali a gas la bella serata di settembre aveva richiamato per le strade un gran numero di persone quando mario oltrepassò il volksgarten sentì i suoni vigorosi di una musica militare e istintivamente pensò a quella serata di salisburgo inutilmente cercava di convincersi che tutta quella vita che la circondava fosse futile e caduca e che non sarebbe stato difficile separarsene non riusciva a sottrarsi a una sorta di benessere che cominciava a impadronirsi di lei stava proprio bene era felice che ci fosse un grande teatro con tante lampade ad arco candide e sfavillanti che là in fondo della gente arrivasse tranquilla dai viali della rathaus park che alcuni sedessero là al caffè che esistessero persone di cui ignorava le pene o che non ne avevano che l'aria intorno lei fosse così dolce e tiepida che le fosse concesso di vedere tante altre di queste sere molte altre notti e giorni magnifici che nelle vene le scorresse una sensazione di salute e di gioia di vivere tutto ciò insomma le faceva bene come doveva forse rimproverarsi che dopo tante ore di languore mortale era tornata per un momento diciamo in sé non era suo diritto essere consapevole del suo esistere era sana giovane e da ogni parte come da cento sorgenti lei non dava ad un tratto la gioia di vivere era tutto naturale come il suo respiro stesso e il cielo sopra il suo capo e avrebbe dovuto vergognarsene pensa a felix se viene un miracolo e guarisce continuerà sicuramente a vivergli accanto pensa a lui con un dolore sottile che la rappacifica tra poco dovrà tornare da lui è vero che è contento solo quando è con lui apprezza le tenerezze come sono aspre le sue parole e tagliente il suo sguardo e i suoi baci da quanto non si baciano pensa le labbra di lui sempre esangui aride lo bacerà solo sulla fronte la sua fronte fredda e umida com'è brutto essere malati si abbandonò all'indietro nella carrozza evitò di proposito di continuare a pensare al malato e per non pensare a lui guardava la strada in ogni particolare e osservava ogni cosa con grande attenzione come se dovesse imprimersela nella memoria felix aprì gli occhi una candela ardeva accanto al letto diffondendo una luce tenue le vicino sedeva una vecchia domestica le mani in grembo indifferente tra salì quando il malato le chiese dov'è marì la donna spiegò che era uscita che sarebbe tornata presto lei può andare rispose felix e siccome la donna esitava vada pure non ho bisogno di lei restò solo un'inquietudine penosa come non mai lo assalì dov'è dov'è non se la faceva più a restare a letto ma non s'azzardava ad alzarsi non tratto un pensiero gli attraversò la mente proprio alla fine se n'è andata lo vuole lasciare solo solo per sempre non sopporta più la vita al suo fianco ha paura di lui ha letto nei suoi pensieri o forse lui ha parlato nel sonno dando voce a ciò che è sempre lì sepolto nella sua coscienza anche se per tanto tempo non ha voluto prenderne atto e lei proprio non vuole morire con lui incessanti i pensieri si susseguivano nella sua mente aveva la febbre tutte le sere saliva da tanto non le dice più una parola gentile magari è solo per quello con i suoi capricci con il suo sguardo diffidente con i suoi discorsi amari la tormentata e lei aveva bisogno di gratitudine no no solo di giustizia oh se solo fosse qui deve averla avertì con dolore coccente di non poter fare a meno di lei le chiederà scusa di tutto se è necessario lo guarderà con occhi dolcissimi e troverà per lei parole di affetto profondo neanche con una sillaba tradirà più la sua sofferenza e sorriderà quando sentirà un'oppressione al petto e bacerà la mano quando farà fatica a respirare le racconterà che fa dei sogni assurdi che quelli che racconta nel sonno sono solo deliri febbridi e giurerà che la adora che le augura una vita lunga e felice soltanto che gli resti vicino fino all'ultimo momento soltanto che non abbandoni il suo letto che non lo lasci morire solo e lui attenderà quel momento terribile con saggezza con calma solo se saprà che lei è vicina per questo deve restare sempre con lui perché lui senza di lei ha paura dov'è dov'è il sangue gli ribolliva nella testa la vista gli si offuscava il respiro diventava fannoso e non c'era nessuno perché mai aveva mandato via la domestica era pur sempre un essere umano adesso era finita finita si sollevò si sentiva più forte di quanto pensasse ma il respiro il respiro era un tormento terribile non poteva più resistere salto giù dal letto e così com'era senza quasi niente addosso corse alla finestra aria aria tirò dei respiri profondi che sollievo si avvolse nell'ampia veste da camera appesa alla spalliera del letto e si abbandonò nella poltrona per qualche tempo i pensieri si confusero poi sempre uno sempre lo stesso che emergeva fulmineo dov'è dov'è che lo abbia lasciato solo altre volte quando dormiva chi può dirlo dove mai sarà andata vuole solo per qualche ora fuggire all'aria cattiva della stanza del malato o vuole fuggire proprio lui perché è malato e ripugna la sua vicinanza a paura dell'ombra della morte che già si aggira qui dentro desidera ardentemente vivere cerca la vita lui non è più la vita per lei cosa cerca cosa vuole dov'è quei pensieri rapidissimi e confusi divennero sillabe sussurrate parole dette con gemiti e allora gridò con voce strisola dove è se la vita davanti che scendeva in fretta le scale un sorriso di liberazione sulle labbra verso un luogo lontano da lì dove non esistevano la malattia il disgusto il lento morire verso qualcosa di sconosciuto verso qualcosa che profumasse e fiorisse la vita allontanarsi in abissarsi in una nebbia sottile in cui scomparve e da cui risuonò la sua risata argentina un riso di felicità e di gioia la nebbia si assottigliò e la vide danzare danzava come in un vortice via via finché scomparve avvertì un cicolare sordo di ruote sempre più vicino che improvvisamente tacque dov'è sobbalzò corse alla finestra era stato il rumore di una carrozza che adesso sostava davanti al portone sì certo riusciva a vederla e dalla carrozza sì era marì era lei doveva andarle incontro si precipitò nell'anticamera immersa nel buio ma non riusciva a trovare la maniglia della porta quando la chiave girò nella toppa la porta si aprì di colpo maria entrò la debole luce a gas del corridoio le faceva intorno come un'aureola urtò senza riuscire a vederlo e mandò un urlo lui la afferrò per le spalle e la trascinò nella stanza aprì la bocca ma non riuscì a parlare ma cos'hai gridò spaventata sei pazzo si divincolò felix rimase ritto in piedi era come se la sua figura diventasse sempre più imponente e finalmente trovò le parole da dove vieni da dove per carità felix torne te come hai potuto ti prego almeno siediti da dove vieni lo disse piano come smarrito da dove da dove mormorò i prezzi le mani erano infuocate locile quasi privo di sensi si fece portare da lei sul divano e si adagiò in un angolo si guardava intorno come se gradualmente stesse riprendendo coscienza poi ripetì con voce chiara senza intonazione da dove vieni marì aveva in parte recuperato la calma gettò il cappello dietro su una sedia e si mise a sedere vicino a lui sul divano e gli disse in maniera assuadente tesoro sono stata fuori solo un'ora avevo paura di ammalarmi anch'io che aiuto avresti avuto allora da me ho preso la carrozza proprio per tornare subito da te felix stava adagiato nell'angolo ormai completamente stremato la guardava di sbieco e non rispondeva niente marì continuò a parlare accarezzandogli le guance bollenti non sei arrabbiato con me vero avevo anche dato alla domestica il compito di restarti vicino fino al mio ritorno non l'hai vista dov'è l'ho mandata via ma perché felix doveva solo aspettare finché fossi tornata mi struggevo per te cosa me ne faccio dell'aria fresca lì fuori se tu non ci sei miez miez appoggiò la testa sul suo seno sembrava un bambino ammalato come un tempo le labbra di marì gli sfiorarono i capelli e lui la guardò con occhi imploranti miez fece resterai sempre con me sempre qui resterai sempre con me sempre vero sì rispose marì e gli baciò i capelli spettinati e tutti umidi provava tanto dolore un dolore immenso avrebbe pianto volentieri ma nella sua commozione sarà qualche ma nella sua commozione sarà qualcosa di arido di appassito niente le serviva di conforto nemmeno il suo stesso dolore e invidiò felix perché vide le lacrime che gli scorrevano sulle guance i giorni e le sere seguenti marì non si allontanò un istante dal letto dell'uomo gli portava i pasti gli preparava le medicine e quando felix era abbastanza in forze e lo richiedeva gli leggeva il giornale o qualche passo di un romanzo quella mattina dopo la sua passeggiata aveva incominciato a piovere ed era iniziato un precoce autunno per ore e per giorni quasi ininterrottamente la pioggia aveva teso lunghi fili grigi davanti alla finestra negli ultimi tempi di notte marì udiva qualche volta il malato fare dei discorsi sconclusionati allora in modo meccanico gli passava le mani sulla fronte e sui capelli mormorando dormi felix dormi come si tranquillizza un bambino agitato era sempre più debole ma non soffriva molto e quando superava i brevi attacchi di asfissia che lo riportavano brutalmente alla malattia ricadeva in uno stato di spossatezza di cui quasi non si rendeva più conto solo qualche volta capitava che se ne stupisse ma perché mi è tutto così indifferente e quando guardava scendere la pioggia pensava ah già l'autunno e non si chiedeva altro in realtà non riteneva possibile alcun cambiamento nella fine nella salute anche marì in quei giorni perdette di vista la possibilità che le cose cambiassero e le stesse visite di alfred erano diventate un'abitudine certo per lui che veniva invece da fuori e continuava ad andare avanti con la vita l'aspetto della camera del malato cambiava di giorno in giorno secondo lui non c'erano più speranze si era accorto che sia per felix sia per marì era iniziata quella fase che a volte subentra nella vita di chi attraversa i più profondi sconvolgimenti in cui non esistono né speranza né paura e persino alla percezione del presente mancando ogni prospettiva sul futuro e ogni visione del passato diventa ottusa e indistinta entrava nella stanza del malato con una sensazione di profondo disagio e era contento di ritrovare i due così come li aveva lasciati anche se alla fine sarebbe arrivato il momento in cui avrebbero ben dovuto prendere atto di ciò che incombeva su di loro un giorno dopo che aveva continuato a riflettere sulla situazione salendo le scale trovò marì nell'anticamera le guance smorte le mani contratte per la tensione venga venga lo apostrofò e lui la seguì in fretta felix era seduto sul letto fissò con sguardo malevolo i due che entravano ed esclamò che intenzioni avete nei miei confronti alfred corse subito verso di lui cosa ti viene in mente felix gli chiese vorrei conoscere le tue intenzioni nei miei confronti ma che domande puerili sono queste mi lasciate morire morire miseramente proruppe felix quasi gridando alfred gli si avvicinò e fece per prendergli la mano il malato la ritrasse bruscamente lasciami e tu marì smettila di torcerti le mani vorrei conoscere le vostre intenzioni voglio sapere come andrà a finire andrebbe molto meglio fece alfred calmo se tu non ti agitassi inutilmente già sono a letto da lungo lunghissimo tempo voi state lì a guardare e non fate niente che intenzioni hai nei miei confronti domandò ancora rivolgendosi di colpo al dottore non dire sciocchezze non si fa niente per me proprio niente succede e nessuno muove un dito per scongiurarlo felix rispose alfred con voce energica sedendosi sul letto e cercando ancora di prendergli la mano certo tu mi consideri semplicemente spacciato mi tieni qui a prendere morfina devi pazientare ancora per qualche giorno ma vedi bene che non mi aiuta niente so io come sto perché mi lasciate morire senza speranza lo vedete bene che sto morendo non ce la faccio più ci sarà pure un rimedio una qualsiasi possibilità di aiuto pensaci bene alfred sei un medico e questo è il tuo dovere certo che c'è un rimedio disse alfred e se non un rimedio forse un miracolo ma qui non avverrà nessun miracolo devo andarmene via voglio andarmene via via infatti non appena sarai un po più in forze lascerai il letto alfred ti sto dicendo che allora sarà troppo tardi ma perché devo restare in questa stanza orribile voglio andare via via da questa città so io di che cosa ho bisogno ho bisogno della primavera del sud quando il sole splenderà allora guarirò tutto ciò è molto ragionevole disse alfred certo andrai al sud ma devi portare ancora un po di pazienza oggi certo non puoi partire nemmeno domani partirai non appena possibile posso mettermi in viaggio oggi stesso lo sento appena lascerò questa stanza di morte sarà un altro uomo ogni giorno che tu mi lasci qui rappresenta un pericolo caro amico devi però pensare che io come medico sei medico e ragioni schematicamente i malati sanno meglio di ogni altro di cosa hanno bisogno è una leggerezza una mancanza di serietà lasciarmi qui a morire nel sud a volte accadono i miracoli non si sta con le mani in mano solo che ci sia un filo di speranza e una speranza esiste ancora è inumano abbandonare uno al suo destino come voi state facendo con me voglio andare nel sud voglio tornare nella primavera e lo farai disse alfred allora verruppe precipitosa marie possiamo partire domani se felix mi promette di stare tre giorni tranquillo allora vi lascio partire ma oggi subito sarebbe delittuoso non lo permetterò a nessuna condizione ma guardi questo tempo fece rivolto a marie temporali pioggia non consiglierei neanche al più sano di mettersi in viaggio oggi allora domani esclamò felix se rischiarirà un po' disse il dottore tra due o tre giorni ti do la mia parola il malato lo fissò con sguardo indagatore poi chiese la tua parola d'onore sì hai sentito esclamò marie non credi disse il malato rivolto ad alfred che ci sia una possibilità di guarigione per me volevi lasciarmi morire in patria è una falsa umanità quando si sta per morire non c'è una patria non c'è più una patria poter vivere questa è la patria e io non voglio non voglio morire senza resistere caro felix stai bene che mi ha intenzione farti trascorrere tutto l'inverno nel sud ma non posso farti partire con un tempo del genere marie disse il malato prepara tutto marie con sguardo interrogativo guardò preoccupata il dottore va bene disse alfred non può certo nuocerti prepara tutto tra un'ora voglio alzarmi partiremo al primo raggio di sole felix si levò nel pomeriggio sembrava che il pensiero di cambiare luogo avesse su di lui un effetto benefico trascorse tutto il tempo sdraiato sul divano senza assopirsi ma non ebbe accessi di disperazione né cadde nell'opaca apatia dei giorni precedenti si interessò ai preparativi di marie diede consigli impartì disposizioni indicò i libri della biblioteca che voleva portare con sé e lui stesso estrasse dalla scrivania un bel pacco di manoscritti da mettere in valigia voglio rivedere le mie vecchie cose fece a marie più tardi cercando di sistemarlo in valigia tornò sull'argomento chissà forse questo periodo di tranquillità ha giovato al mio spirito mi sento maturato una straordinaria chiarezza in certe ore si diffonde su tutti i miei pensieri già il giorno dopo il tempo tendeva al bello e in quelli successivi era così tiepido che si potevano aprire le finestre la luce di un pomeriggio d'autunno tiepido e gradevole si rifletteva sul pavimento e quando marie si mise giù davanti alla valigia i raggi del sole si posarono sull'onda dei capelli alfred arrivò mentre marie stava riponendo appunto manoscritti in valigia e felix allungato sul divano cominciava a parlare dei suoi piani anche questo dovrai permettere fece alfred sorridendo spero che tu sia abbastanza prudente da non iniziare il lavoro troppo presto oh disse felix per me non sarà una fatica mille luci potenti e nuove illuminano tutte le idee che finora mi erano rimaste sempre oscure certamente molto positivo fece alfred pacato osservando il malato che fissava il vuoto con sguardo immobile non devi fraintendermi proseguì non ho un'idea ben precisa ma è come se si stesse preparando qualcosa bene bene sai è come se sentissi accordare gli strumenti di un'orchestra questo mi ha sempre profondamente colpito anche nella realtà tra pochi istanti nasceranno delle pure armonie e tutti gli strumenti suoneranno all'unisono e cambiando improvvisamente discorso domandò hai prenotato lo scompartimento sì rispose il dottore allora domattina esclamò marì di buon umore era in continuo movimento andava dal comò alla valigia e da questa alla libreria poi di nuovo alla valigia sistemava ogni cosa e la riponeva alfred si sentiva stranamente commosso era forse arrivato da una coppia che si preparava a un viaggio di piacere tanto piena di speranza e serena sembrava l'atmosfera che regnava in quella stanza marì volle accompagnarlo addio esclamò che bella idea andarsene sono così contenta e felix letteralmente cambiato da quando si fa sul serio alfred non sapeva cosa rispondere e porse la mano e fece per andarsene poi però rivolgendosi sempre a marì disse mi deve promettere una cosa cosa voglio dire che un amico è sempre più che un medico lei sa che sono sempre a sua disposizione non ha che da telegrafare marì era spaventatissima crede che potrebbe essere necessario lo dico così solo per ogni evenienza detto questo se ne andò marì si fermò un momento a riflettere poi entrò di fretta nella stanza temendo che felix potesse inquietarsi della sua breve assenza ma sembrava che l'aspettasse solo per proseguire il discorso interrotto sai marì disse il sole ha sempre avuto su di me una benefica influenza quando farà più freddo andremo ancora più a sud in riviera e dopo cosa ne dici in africa sei d'accordo all'equatore realizzerei il mio capolavoro questo è sicuro continuò a chiacchierare sinché marì gli si avvicinò mi accalizzò le guance e fece sorridendo per adesso basta non essere così imprudente poi devi anche andare a letto domani bisognerà alzarsi presto vide che le sue guance erano molto rosse e gli occhi quasi scintillavano e quando gli prese le mani per aiutarlo ad alzarsi dal divano sentì che scottavano felix si svegliò allo spuntare dell'alba era allegro eccitato come un bambino che parte per le vacanze due ore prima di andare alla stazione sedeva già tutto pronto sul divano anche marì aveva da un pezzo sbrigato tutto indossava lo spolverino grigio il cappello con la veletta azzurra e stava alla finestra in attesa della carrozza prenotata ogni due minuti felix domandava se era già arrivata era impaziente già stava pensando di farne venire un'altra quando marì esclamò eccola eccola e c'è anche alfred aggiunse subito alfred sbucò dall'angolo contemporaneamente alla carrozza e fece un cenno affettuoso di saluto subito dopo entrò nella stanza siete già pronti esclamò cosa andate a fare così presto alla stazione oltretutto avete già fatto colazione vedo felix è tanto impaziente disse marì alfred gli si avvicinò e il manato gli sorrisse sereno tempo splendido per viaggiare disse sì farete un bellissimo viaggio convenne il dottore e prese un biscotto posso ma lei non ha fatto colazione sclamò marì preoccupata no no ho bevuto un bicchierino di cognac aspetti il caffè ce n'è ancora nella caffettiera marì volle a tutti i costi versarglielo poi andò in anticamera per dare alcune disposizioni alla cameriera alfred sorseggiò lentamente il caffè a restare da solo con l'amico si sentiva a disagio e non avrebbe saputo cosa dire marì entrò annunciando che tutto era pronto per la partenza felix levato si andò per primo alla porta si era buttato alle spalle il cappotto grigio dal largo bavero portava un cappello floscio e scuro e in mano aveva il bastone volle scendere per primo le scale ma non appena sfiorò con la mano la ringhiera cominciò a vacillare alfred e marì gli furono subito accanto e lo sorressero mi gira un po la testa disse felix ed è tutto normale fece alfred quando ci si alza dal letto dopo tante settimane prese il malato per un braccio marì lo prese per l'altro e lo accompagnarono giù alla vista del malato il vetturino della carrozza si levò il berretto alle finestre della casa di fronte delle donne guardavano con compassione e come alfred e marì sistemarono nella carrozza il giovane pallido come un morto anche il portinaio si frettò ad offrire il suo aiuto quando la carrozza partì il portinaio e le donne si scambiarono sguardi di commossa comprensione in piedi sul predellino della carrozza alfred chiacchierò con marì fino all'ultimo segnale della campana felix seduto in un angolo sembrava indifferente solo quando risuonò il fischio della locomotiva sembrò che riacquistasse l'attenzione e salutò l'amico con un cenno del capo il treno si avviò alfred rimase alcuni istanti sulla banchina e lo guardò allontanarsi poi si girò lentamente e se ne andò il treno aveva lasciato da poco la stazione quando marì si sedette vicina vicina a felix per chiedergli se desiderasse del cognac oppure un libro o che gli si leggesse il giornale felix sembrò che provasse gratitudine per tanta gentilezza e le strinse la mano poi domandò quando arriviamo a merano infine siccome marì non sapeva l'ora esatta si fece leggere tutte le notizie importanti dall'orario ferroviario voleva sapere in che stazione sarebbero arrivati a mezzogiorno in quale località sarebbe scesa la notte e si interessò a una quantità di particolari che in genere gli erano indifferenti cercò di calcolare quante persone potesse ospitare il treno chiedendosi se ci fossero anche delle coppie giovani dopo un po volle del cognac ma questo gli provocò la tosse e così in malo modo ingiunse a marì di non dargliene più per nessuna ragione neanche se glielo avesse richiesto un po più tardi domandò del bollettino meteorologico del giornale e fece un cenno di soddisfazione col capo quando sentì che le previsioni erano buone superarono il semmering felix osservava con attenzione le colline boschi prati e montagne ma si limitava a scarni commenti grazioso bellissimo privi di entusiasmo a mezzogiorno mangiò qualcosa di freddo che avevano portato con sé e andò su tutte le furie quando marì questa volta gli rifiutò il cognac così che alla fine lei dovete adattarsi a dargliene un po lo resse abbastanza bene si rianimò e prese a mostrare interesse per tutte le cose ben presto chiacchierando di ciò che vedeva scorrere davanti ai finestrini o che trovava nelle stazioni riprese a parlare di sé ho letto di certi sonnambuli cui in sogno sono apparsi dei rimedi ai quali nessun medico aveva pensato e grazie ai quali sono poi guariti il malato deve seguire i suoi impulsi più profondi dico io certo rispose marì sud aria del sud la gente sostiene che tutta la differenza consiste nel fatto che lì è caldo e che tutto l'anno ci sono fiori e forse più ozono ma non ci sono né tempeste né neve ma chissà cosa c'è invece nell'aria del sud elementi misteriosi che non conosciamo ancora la guarirai sicuramente fece marì prendendo la mano del malato tra le sue e portandosela alle labbra continuò a parlare di tutti quei pittori che si possono incontrare in italia della nostalgia che aveva spinto tanti artisti e tanti sovrani a roma e di venezia dove era già stato una volta molto prima di conoscere marì alla fine si stancò e volle coricarsi per tutta la lunghezza dei sedili rimase così quasi sempre in un leggero sopore sinché si fece sera marì gli sedeva di fronte e l'osservava era tranquilla provava solo un po di compassione tanto smorto e tanto invecchiato come era mutato quel bel viso dalla scorsa primavera adesso c'era un pallore diverso da quello che lei aveva sulle guance e la rendeva più giovane quasi virginia quanto stava meglio lei di lui con tanta chiarezza un pensiero così non l'era mai venuto perché il suo dolore non è più intenso certo non per mancanza di interesse semplicemente a causa di una stanchezza smisurata che da giorni e giorni non la lascia più anche se ci sono momenti in cui si sente più viva di essere stanca e contenta perché teme le angosce che la saliranno quando smetterà di esserlo marì si svegliò di soprassalto dal sonno in cui era sprofondata si guardò intorno era quasi buio la lampada schermata mandava un filo di luce di modo che lo scompartimento era immerso in una penombra verdastra fuori dai finestrini era notte notte come viaggiare in un lungo tunnel perché si era svegliata così di colpo il silenzio era quasi assoluto solo il rumore monotono delle ruote continuava senza posa abituandosi via via a quella luce fioca adesso poteva distinguere i lineamenti di felix sembrava che riposasse tranquillo tanto era immobile all'improvviso emise un sospiro profondo sinistro simile a un gemito il cuore cominciò a batterle all'impazzata certo si era lamentato altre volte in quel modo fino a svegliarla ma cosa significava adesso guardò più da vicino non dormiva stava disteso con gli occhi sbarrati poteva vederlo distintamente aveva paura di quegli occhi che guardavano fissi nel vuoto nella lontananza nel buio ancora un gemito ancora più straziante del precedente si mosse e di nuovo tirò il fiato non con dolore ma con brutalità un tratto si era sollevato raggendosi con le mani sui cuscini e poi scagliato via il cappotto grigio che lo copriva cercò di alzarsi ma il movimento del treno glielo impedì ed egli ricadde nell'angolo marie era scattata in piedi cercando di allontanare il paralume verde della lampada un tratto si sentì afferrata dalle braccia di felix che ancora tremante la tirò sulle sue ginocchia marie marie fece con voce roca tentò di liberarsi ma non si riuscì sembrava essergli tornata tutta la sua forza la stringeva con violenza a sé sei pronta marie sussurrò le labbra vicinissime al suo collo lei non capì aveva solo la sensazione di una paura smisurata era in difesa avrebbe voluto gridare sai pronta chiese ancora felix ma intanto allentava la stretta in modo che le sue labbra il suo respiro la sua voce si allontanassero e lei poteva respirare più liberamente cosa vuoi ti ha già angosciata non mi capisci replicò felix lasciami lasciami gridò lei ma le sue parole si persero nel rombo del treno che continuava la corsa lui non reagì non la trattenne marie si alzò dalle sue ginocchia e si sedette nell'angolo di rimpetto non mi capisci domandò ancora felix che cosa vuoi mormorò lei dal suo angolo voglio una risposta fece lui marie taceva tremava desiderava con tutte le sue forze che fosse giorno allora si avvicina disse felix sottovoce chinatosi in avanti in modo che lei potesse udire più chiaramente le sue parole ti domando se sei pronta quale ora la nostra la nostra lei allora capì e si serrò la gola ti ricordi marie continuò lui con una voce che aveva assunto un tono dolce quasi supplichevole le prese le mani tra le sue mi hai dato tu il diritto di domandartelo morirò ancora ti ricordi lei aveva riacquistato un certo autocontrollo perché seppure le sue parole erano terribili gli occhi avevano perduto quella fissità la sua voce quel tono minaccioso sembrava quasi implorare ti ricordi lei ritrovò ora la forza di rispondergli anche se le tremavano le labbra sei proprio un bambino felix lui sembra non udire in tono monotono come se ricordasse di nuovo e più chiaramente una realtà quasi dimenticata fece adesso si avvicina la fine e noi dobbiamo andarcene marie il tempo a nostra disposizione è finito c'è qualcosa di avvincente di determinato di ineluttabile in quelle parole bisbigliate a mezza voce se l'avesse minacciata lei avrebbe saputo difendersi meglio per un attimo mentre lei si stava avvicinando ancora di più fu assalita dalla paura tremenda che si sarebbe avventato su di lei e l'avrebbe strozzata stava già pensando di fuggire all'altro capo dello scompartimento di infrangere il vetro del finestrino di chiamare aiuto ma in quello stesso momento lui lasciò le sue mani e si appoggiò allo schienale quasi non avesse più niente da dire marie fece allora ma felix che discorsi vai facendo proprio adesso che stiamo andando al sud dove guarirai completamente l'uomo seduto di fronte a lei sembrava immerso nei suoi pensieri marie si alzò e tolse alla svelta dalla lampada il paralume verde anche sollievo finalmente c'era luce il suo cuore riprese a battere normalmente e la paura se ne andò sedette di nuovo nel suo angolo e felix che aveva sempre guardato a terra sollevò gli occhi su di lei poi fece lentamente marie non mi ingannerà né il giorno né il sud ora so perché parla con tanta calma pensò marie forse vuole rassicurarmi ha paura che io cerchi di scappare e si propose di stare in guardia non lo perdeva di vista ascoltava appena le sue parole seguiva ogni suo movimento ogni sguardo e gli disse sei libera neanche il tuo giuramento ti vincola posso forse obbligarti non vuoi darmi la mano mi diede la mano ma in maniera che restasse sopra a quella di lui fosse almeno giorno mormorò felix senti caro disse lei cerca di dormire ancora un poco presto sarà giorno fra qualche ora siamo a merano non riesco più a dormire le spose levando in alto gli occhi così che proprio in quel momento i suoi sguardi si incontrarono negli occhi di lei lui colse un'espressione diffidente indagatrice e così tutto gli fu chiaro voleva che lui si addormentasse per poter scendere inosservata alla stazione successiva e scappare cosa hai in mente gridò lei trasalì niente lui cercò di alzarsi appena lei se ne accorse si rifugiò nell'altro angolo dello scompartimento lontano da lui aria aria gridò felix abbassò il finestrino e sporse fuori il capo nell'aria della notte marì si tranquillizzò era solo la mancanza di fiato che lo aveva spinto ad alzarsi di colpo gli tornò vicino e con dolcezza lo allontanò dal finestrino non ti può certo far bene fece lei mentre lui sprofondava di nuovo nel suo angolo respirando la fatica marì restò per un po in piedi davanti a lui appoggiando una mano sul bordo del finestrino aperto poi riprese il suo posto di fronte a felix dopo poco il suo respiro tornò normale e un leggero sorriso gli affiorò sulle labbra lei lo guardò smarrita ansiosa chiudò il finestrino fece lui assentì il giorno il giorno esclamò lei all'orizzonte si profilavano delle strisce grigio rossastre rimasero a lungo seduti in silenzio l'uno di fronte all'altra alla fine parlo a lui mentre gli riaffiorava sulle labbra quel sorriso non sei pronta lei avrebbe voluto rispondergli alla solita maniera che era un bambino qualcosa di simile ma non si riuscì un sorriso così impediva qualunque risposta il treno rallentò pochi minuti dopo era già in stazione dove pensavano di fare colazione sulla banchina correvano su e giù i camerieri con dolci e caffè molti viaggiatori scesero si sentivano rumori e grida marì aveva l'impressione di essersi risvegliata da un sonno pesante e la normalità di quell'andirivieni le faceva assai bene sentendosi di nuovo sicura si alzò e guardò fuori sulla banchina alla fine fece un cenno a un cameriere ed ebbe una tazza di caffè felix la guardò mentre lo sorseggiava ma quando gli hanno offerse scosse il capo in cenno di diniego dopo un po il treno si rimisa in movimento e quando uscirono dalla stazione ormai era giorno il tempo era bello il tempo era bello di fronte si levavano le montagne inondate dalla luce purpurea dell'alba marì prese la decisione di non avere più paura della notte felix guardava continuamente fuori dal finestrino come volesse evitare il suo sguardo e la donna ebbe l'impressione che si vergognasse per quanto era accaduto la notte precedente il treno si fermò ancora a brevi intervalli e quando entrò nella stazione di merano era un giorno d'estate magnifico e caldo eccoci arrivati esclamò marì finalmente finalmente noleggiarono una carrozza e andarono a cercare un appartamento che facesse al caso loro non abbiamo bisogno di risparmiare disse felix finché dura il mio patrimonio fecero fermare i vetturini davanti a certe ville e mentre felix restava in carrozza marì visitava l'alloggio e i giardini trovarono presto la casa giusta era piuttosto piccola un piano basso con un giardinetto marì pregò la donna che se ne occupava di venire fuori con lei e di spiegare al giovane rimasto in tozza quali pregi avesse la villa felix si dichiarò d'accordo su tutto e la coppia vi si stabilì immediatamente felix si era ritirato subito in camera da letto senza partecipare al vivo interesse di marì per la nuova dimora dettò uno sguardo intorno alla svelta era una stanza spaziosa e accogliente tapezzata in verde chiaro con un'ampia finestra in quel momento aperta così che tutta la camera era invasa dal profumo del giardino di fronte alla finestra i letti felix sfinito si lasciò andare su uno di essi intanto marì si fece portare in giro dalla donna e fu molto contenta che ci fosse quel giardinetto cinto da un'alta cancellata e al quale si poteva accedere anche dalla porticina situata sul retro senza dover attraversare la casa questo lato si affacciava su un viale che portava direttamente alla stazione in un tempo più breve che non percorrendo la carrozzabile lungo la quale si trovava la casa quando marì rientrò nella stanza dove aveva lasciato felix lo trovò disteso sul letto lo chiamò a voce alta ma lui non rispose e si avvicinò era ancora più pallido del solito lo chiamò un'altra volta nessuna risposta non si muoveva la prese una paura tremenda chiamò la donna e la mandò a cercare un dottore non appena la donna uscì felix aprì gli occhi e mentre cercava di dire qualcosa si alzò con il viso stravolto dall'angoscia e subito ricadde indietro rantolando gli scorreva dalle labbra un rivolo di sangue marì si chinò su di lui smarrita disperata corse alla porta per vedere se arrivava il dottore poi tornò da lui e lo chiamò per nome ah almeno ci fosse stato alfred finalmente arrivò il medico un signore piuttosto anziano con due fedine grigie faccia qualcosa la supplico esclamò marì nel momento in cui entrava per quanto l'agitazione glielo consentisse cercò di aggiornarlo sulla situazione il dottore osservò il malato gli sentì il polso disse che per il momento non poteva visitarlo e diede le disposizioni necessarie marì lo accompagnò fuori e gli chiese cosa poteva succedere non posso ancora dirlo rispose lui un po di pazienza speriamo promise di tornare la sera stessa e dalla carrozza salutò marì rimasta sulla porta con una gentilezza disinvolta come se avesse fatto una visita di circostanza per un attimo marì rimase sconcertata ma subito le venne un'idea che sembrava rappresentare la salvezza si avviò senza indugio all'ufficio postale per mandare un telegramma ad alfred dopo averlo spedito si sentì sollevata ringraziò la donna che si era presa cura del malato in sua assenza si scusò con lei per il disturbo che le si dava già al primo giorno e promise che avrebbero dimostrato in maniera tangibile la loro riconoscenza felix stava sempre disteso sul letto vestito e ancora privo di conoscenza ma il respiro si era fatto di nuovo regolare la donna cercò di consolare marì seduta al capezzale raccontando di molti malati gravi che a merano si erano ristabiliti e le confidò che anche lei da giovane era stata malata e che si poteva vedere si era ristabilita completamente raccontò poi delle molte sventure che l'avevano colpita il marito era morto dopo due anni di matrimonio i figli erano in giro per il mondo sì tutto sarebbe potuto andare diversamente ma lei era molto contenta di avere a questo punto un buon posto in villa del proprietario che veniva al massimo due volte al mese da bolzano per vedere se tutto fosse in ordine non ci si poteva lamentare saltava di palo in frasca ed esibiva un'eccessiva gentilezza si offrì di disfare le valigie ciò che marì accettò ringraziando e più tardi le portò in camera il pranzo il latte per il malato era già pronto e certi lievi movimenti lasciavano intendere che presto si sarebbe svegliato finalmente felix riprese conoscenza girò più volte il capo a destra e a sinistra e fissò lo sguardo su marì china su di lui quindi sorrise e le strinse debolmente la mano che cosa mi è successo domandò il medico tornando nel pomeriggio notò un netto miglioramento e permise che lo si spogliasse e lo si mettesse a letto felix si lasciò fare tutto con indifferenza dal capezzale del malato marì non si mosse più che pomeriggio interminabile dalla finestra rimasta aperta per esplicito ordine del dottore entravano i profumi delicati del giardino e tutto era tanto tranquillo marì seguiva meccanicamente il brillio dei raggi di sole sul pavimento felix tenne quasi sempre stretta la mano di lei la sua era fredda umidiccia e marì ne traeva una sensazione sgradevole ogni tanto rompeva il silenzio sforzandosi di dire qualcosa va meglio non è vero lo sapevo non parlare non devi dopo domani potrai uscire in giardino lui annuiva e sorrideva poi marì calcolava quando sarebbe potuto arrivare alfred forse già domani sera ancora una notte e un giorno solo che fosse già qui il pomeriggio si espandeva all'infinito il sole tramontò e anche la stanza cominciava ad essere immersa nel crepuscolo ma quando marì guardava giù in giardino vedeva ancora i raggi dorati del sole sfiorare i sentieri bianchi di ghiaia e le sbarre della cancellata tutto un tratto proprio mentre guardava fuori udì la voce del malato marì subito si volse verso di lui ora sto molto meglio disse ad alta voce non devi parlare forte non improverò con tenerezza molto meglio sussurrò anche stavolta è andata forse è stata la crisi sicuro confermò lei confido nell'aria buona ma non deve più ripetersi altrimenti sono spacciato ma felix lo vedi bene che adesso ti senti già meglio sei brava marì ti ringrazio curami bene sta attenta sta attenta che bisogno hai di dirmelo ribatte lei in tono di leggero l'improvero ma lui proseguì mormorando perché quando dovrò andarmene ti porterò via con me una paura mortale lassali intanto che lui pronunciava queste parole ma perché certo felix non poteva rappresentare un pericolo era troppo debole per farle qualche violenza adesso lei era molto più forte di lui che cosa poteva avere dunque in mente cosa cercava con quegli occhi lì tutti intorno sulla parete nel vuoto non riusciva neanche a sollevarsi con sé non aveva certo armi forse del veleno poteva essere solo procurato magari se lo portava appresso e glielo avrebbe versato nel bicchiere ma dove poteva tenerlo nascosto la stessa lo aveva aiutato a spogliarsi forse una bustina nel portafogli ma il portafogli stava nella giacca no 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 erano soltanto parole dettategli dalla febbre e dal piacere di tormentarlo nient'altro ma se la febbre può dettare parole simili e pensieri così perché non anche l'azione magari potrebbe approfittarne di un momento in cui lei dorme per strangolarla non occorre molta forza per questo lei potrebbe anche svenire da un momento all'altro e allora sarebbe in difesa questa notte lei non dormirà e domani sarà arrivato alfred scese la sera e poi venne la notte felix non aveva più aperto bocca ogni sorriso era scomparso delle sue labbra guardava fisso davanti a sé con uno sguardo cupo appena ci fece buio la donna portò delle candele e si preparò ad apprestare il letto vicino a quello del malato marie le fece segno con la mano che non era necessario e felix se ne accorse perché chiese e subito aggiunse sei troppo buona marie dovresti andare a dormire adesso mi sento davvero meglio a lei in quelle parole sembra di notare dello scherno non si coricò passò quella notte lunghissima interminabile vicino al letto di lui senza chiudere occhio felix quasi sempre restò abbastanza tranquillo ogni tanto a marie veniva da pensare che lui fingesse di dormire per rassicurarla lo osservò più da vicino ma la luce incerta della candela disegnava come dei tremiti intorno alle labbra e gli occhi del malato che la turbavano una volta andò anche alla finestra e guardò giù nel giardino immerso in una smorta luce grido azzurra e se si sporgeva un poco e alzava gli occhi riusciva a scorgere la luna che sembrava sospesa sugli alberi non c'era un alito di vento e nel silenzio infinito nell'immobilità che la avvolgevano ebbe l'impressione che le sbarre della cancellata che riusciva a distinguere chiaramente piano piano venissero avanti per poi fermarsi dopo mezzanotte felix si svegliò marie gli mise a posto i cuscini e obbedendo a un'improvvisa ispirazione cercò con le mani tra questi per vedere se mai vi fosse nascosto qualcosa e tornava all'orecchio quella frase ti porterò via con me ti porterò via con me ma se lo avesse pensato veramente lo avrebbe detto e se davvero avesse avuto la capacità di escocitare un piano prima di tutto non si sarebbe preoccupato di non tradirsi era proprio puerile da parte sua lasciarsi intimorire dai vaneggiamenti insignificanti di un malato e venne un po di sonno e scostò la sua sedia dal letto a ogni buon conto ma non voleva addormentarsi semplicemente i suoi pensieri cominciarono a confondersi e dalla chiara coscienza del giorno cominciarono a fluttuare in una grigia penombra di sogno affiorarono dei ricordi di giorni e notti di esuberante felicità ricordi di momenti in cui l'aveva tenuta tra le braccia mentre nella stanza alleggiava sopra di loro il tenue respiro della primavera ebbe la sensazione imprecisa che il profumo del giardino non saltardasse a penetrare di dentro e tornò alla finestra per inebriarsene dai capelli del malato pareva diffondersi un odore dolciastro e stantio nauseante che impregnava tutta la stanza e adesso solo che fosse finita sì finita non aveva più paura di questo pensiero e le veniva in mente la formula insidiosa che trasforma il più atroce dei desideri in compassione ipocrita per lui sarebbe una liberazione e poi si vide seduta sulla panchina sotto un grande albero in giardino pallida ed esausta dal pianto ma quei segni di lutto stavano soltanto sul suo viso nel cuore era scesa invece una calma deliziosa come da molto tempo non accadeva e poi vide una figura lei stessa che si alzava scendeva in strada e si allontanava lentamente infatti adesso poteva andare dove voleva ma intanto che fantasticava restava ben vigile in modo da poter ascoltare il respiro del malato che a tratti si trasformava in un gemito finalmente esitante si fece avanti il mattino già alle prime luci la domestica comparve alla porta offrendo gentilmente di dare il cambio a marie lei accettò con gioia dopo un'ultima furtiva occhiata a felix lasciò la stanza ed entrò in quella accanto dove le avevano preparato per il riposo un comodo divano ah come stava bene si buttò lì sopra ancora vestita e chiuse gli occhi si risvegliò solo dopo molte ore la avvolgeva una piacevole penombra attraverso le fessure delle imposte filtravano esili raggi di sole si tirò su svelta e subito si fece un'idea chiara della situazione oggi sarebbe giunto alfred e questo le consentiva di affrontare con più coraggio le difficili ore che sarebbero arrivate senza esitare andò nella stanza vicina aperta la porta restò abbagliata per un istante dal candore della coperta distesa sul letto del malato poi scorse la donna che portò un dito alle labbra si alzò dalla sedia in punta di piedi le venne incontro mentre entrava dorme profondamente mormorò e aggiunse che era stato sveglio sino a un'ora prima con la febbre alta e che aveva chiesto qualche volta di lei di mattina presto era stato lì il dottore e aveva trovato stazionario il malato lei avrebbe voluto svegliarla ma il dottore non lo aveva permesso comunque sarebbe tornato nel pomeriggio marie ascoltò con attenzione la buona vecchia la ringraziò per l'assistenza e prese il suo posto era una giornata calda quasi affosa e mancava poco a mezzogiorno sul giardino gravava una luce ferma e pesante quando marie volse lo sguardo al letto si accorse subito che le mani sottili del malato sulla coperta erano scosse da brevi tramiti ripetuti il mento gli stava giù basso il viso aveva un pallore mortale le labbra erano socchiuse per alcuni secondi si fermò il respiro poi il fiato si fece breve e affannoso rischia di morire prima che arrivi alfred pensò marie ad un tratto felix giaceva inerte il suo volto aveva riacquistato un'espressione di giovinezza sofferente e mostrava una fiacchezza come dopo dolori indicibili una rassegnazione come dopo una lotta disperata di colpo a marie fu chiaro cosa avesse così terribilmente sfigurato negli ultimi tempi i lineamenti di lui e che adesso non c'era l'amarezza con cui la osservava non c'era più odio nei suoi sogni e lui era di nuovo bello desiderò che si svegliasse vedendolo così si sentì colma di una pena indescrivibile di un'angoscia che la divolava tutta quello che lei vedeva morire era un'altra volta l'uomo che amava d'un tratto comprese ciò che stava accadendo tutto lo strazio di quell'evento terribile e ineluttabile la pervase e ancora tutto tutto le fu chiaro che lui era stato la sua felicità e la sua vita e che aveva voluto morire con lui e che adesso si avvicinava paurosamente il momento in cui tutto sarebbe finito per sempre senza ritorno e la freddezza del suo cuore giorni e notti di indifferenza divennero allora qualcosa di oscuro e incomprensibile e ora ora si può ancora sopportare lui vive ancora respira magari sogna ma poi giacerà rigido un cadavere verrà sepolto riposerà sottoterra in un cimitero tranquillo su cui i giorni trascorreranno uguali intanto che lui si decompone e lei vivrà starà tra la gente sapendo di una tomba silenziosa dove lui giace immobile lui che lei ha amato le lacrime scorrevano inarrestabili alla fine scoppiò in singhiozzi felix allora si mosse e mentre lei si passava il fazzoletto sulle guance con un gesto rapido lui aprì gli occhi e la osservò a lungo con uno sguardo interrogativo ma non disse niente dopo qualche minuto mormorò vieni allora lei si alzò dalla sedia si chinò e lui sollevò le braccia come se volesse cingerle il collo invece le lasciò ricadere e le domandò hai pianto no risposerei precipitosamente scostandosi i capelli dalla fronte lui la fissò ancora a lungo serio poi si girò dall'altra parte sembrava meditare marì ripensò se dovesse dire qualcosa al malato del telegramma che aveva inviato ad alfred doveva prepararlo no perché poi la cosa migliore è che lei stessa si mostri sorpresa dell'arrivo di alfred il resto della giornata trascorse nella cupa tensione dell'attesa gli avvenimenti esterni le passavano davanti come avvolti in una nebbia la visita del dottore fu rapida trovò il malato completamente apatico si scuoteva ogni tanto dai suoi rantoli per fare domande per esprimere qualche desiderio irrilevante chiedeva l'ora voleva bere la domestica andava e veniva marì trascorse tutto il tempo nella stanza di solito accanto al malato ora restava ai piedi del letto ora si appoggiava col braccio alla spalliera ora andava alla finestra e guardava in giardino dove l'ombra degli alberi si allungava via via sinché il crepuscolo calò sui prati e sui viali la sera si era fatta a fosa e la luce della candela sul comodino del malato quasi immobile soltanto quando fu notte fonda e sulle montagne azzurrine in lontananza spuntò la luna si alzò una lieve brezza marì si sentiva rinvigorita da quel soffio sembrò che facesse bene anche al malato felix mosse la testa e volse gli occhi sbarrati verso la finestra tirando infine un profondo respiro marì gli prese la mano abbandonata che sulla coperta penzolava da un lato vuoi qualcosa domandò lui le ritrasse lentamente e fece marì vieni lei si avvicinò e mise la testa vicinissima al cuscino allora lui le appoggiò le mani sui capelli come volesse benedirla poi tenendole così disse a voce bassa ti ringrazio per tutto il tuo amore lei con la testa accanto al cuscino sentiva che le veniva ancora da piangere nella stanza un grande silenzio solo in lontananza si sentiva il fischio di un treno poi ancora il silenzio in quella fosa sera d'estate greve incredibilmente dolce l'improvviso felix si rizzò sul letto con tanta rapidità e violenza che marì si spaventò sollevandosi dal cuscino e fissò allora felix in volto e lui le strinse la testa tra le mani come aveva fatto tante volte nei momenti di selvaggia tenerezza marì esclamò voglio ricordarti cosa chiese cercando di liberare la testa dalle sue mani ma lui sembrava avesse riacquistato tutta la sua forza e la teneva stretta 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 voglio ricordarti la tua promessa di morire con me le disse con violenza aveva pronunciato quelle parole stando le vicinissimo sentiva respiro di lui che le sfiorava la bocca e non poteva sottrarsi parlava così vicino come se lei dovesse bere quelle parole ti porto via con me non voglio andarmene da solo ti amo e non ti lascerò qui era come paralizzata dalla paura un grido flebile così soffocato che lei stessa quasi non lo udì e venne su dalla gola la testa restava immobile tra le mani di lui che spasmodicamente le stringevano le tempie e le guance e felix continuava a parlare e il suo alito caldo e umido le bruciava il viso insieme insieme era questa la tua volontà ho paura di morire da solo vuoi vuoi finalmente marì allontanata con i piedi la sedia sotto di sé liberò la testa dalla morsa delle sue mani come strappandole da un cerchio di ferro e lui restò con le mani sollevate in aria come se ancora la trattenesse continuando a fissare quasi non riuscisse a rendersi conto dell'accaduto no no ridò marì non voglio e si precipitò alla porta felix si sollevò come per balzare giù dal letto ma le forze lo abbandonarono ricadde pesantemente sul letto come una massa inerte ma lei non vedeva già più aveva spalancato la porta e di corsa aveva attraversato la stanza vicina fino all'atrio non si controllava più lui aveva voluto strozzarla ancora sentiva le dita dell'uomo che le percorrevano le tempie le guance il collo si precipitò verso la porta di casa nessuno le venne in mente che la domestica era uscita per provvedere alla cena cosa doveva fare ritornò indietro e attraversando l'atrio si precipitò in giardino corse per i viali per il prato come inseguita da qualcuno finché arrivò dalla parte opposta voltandosi così vide la finestra della stanza da cui era fuggita fide il lume tremolante della candela ma il suo sguardo non ravvisò altro che cosa è stato cosa si disse non sapeva che fare vagava senza meta per il sentierino lungo la cancellata e a questo punto le venne in mente alfred arriverà deve arrivare attraverso le sbarre della cancellata brillava rischiarata dalla luna la strada che dalla stazione conduceva alla casa si affrettò verso la porta del giardino e la aprì davanti a lei la strada si snodava bianca deserta ma forse arriverà da un'altra parte no no ecco si avvicina un'ombra sempre più vicina svelta sempre più svelta la figura di un uomo lui mi corse incontro alfred e lei marì era lui si sarebbe messa a piangere per la gioia e come le fu vicino gli avrebbe baciato la mano che cosa c'è chiese alfred e lei lo portò con sé senza parlare felix era rimasto immobile solo un istante poi si era rimesso a sedere guardandosi intorno marì era andata via e lui era solo l'ansia lo attanagliò soltanto una cosa gli era chiara bisognava che la avesse lì accanto a sé con un salto fu fuori dal letto ma non riuscì a reggersi in piedi e cadde giù diverso sentiva come un rumore che gli faceva scoppiare la testa si appoggiò alla sedia e venne avanti spingendola marì 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 mor morava non voglio morire solo non posso dov'era dove poteva essere era arrivato ormai alla finestra sempre con l'aiuto della sedia e davanti a lui stava il giardino nello splendore di quella notte affusa tutto riluceva e sembrava pulsare l'erba e gli alberi era come se danzassero una primavera così lo avrebbe guarito quell'aria quell'aria se un'aria gli avesse sempre espirato intorno doveva venire la guarigione ma laggiù cosa sarà laggiù ed ecco che dalla cancellata che sembrava immersa in un abisso profondo vede avanzare sul candido luccicante viale di ghiaia una figura di donna avvolta nel chiarore azzurrino della luna era come sospesa volava pur restando lontana marì marì e subito dietro lei un uomo un uomo con marì mostruosamente grande e il cancello cominciava a danzare danzava dietro di loro e danzava nero anche il cielo tutto tutto danzava dietro di loro e un eco un suono un canto un lontananza era così bello così bello infine il buio marì e alfred si avvicinarono si misero a correre arrivata alla finestra marì si arrestò e guardò angosciata nella stanza non c'è più gridò il letto è vuoto lanciò un urlo improvviso e ricadde indietro tra le braccia di alfred lui si chinò sul davanzare mentre la scostava con dolcezza e vide subito l'amico a terra vicino alla finestra diceva disteso con la camicia bianca le gambe allargate con accanto a una sedia rovesciata stringendone ancora con la mano la spalliera dalla bocca collava sul mento una riga di sangue e labbra e le palpebre sembrava che guittassero nervosamente ma quando alfred guardò meglio si accorse che era soltanto il riflesso ingannevole della luna che giocava su quel viso così pallido grazie a tutti